Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, mi do a nome dell'Ufficio di Presidenza il bentornato dopo la sospensione per le vacanze natalizie. Saluto il pubblico, il Sindaco, gli Assessori e tutti i Consiglieri. Passo la parola al Segretario Comunale per l'appello. Di Stefano. Bonato. C'è Bonato? C'è Bonato, sì. Cagliani. Calini. Coccetti. Cupido. Foggetta. Garotta. Gatti. Ghezzi. Amdi. Maderloni. Milazzo. Molteni. Moltrasio. Nigro. Pagani. Pastorino. Pini. Presente. Pogliaghi. Ricupero. Romano. Turolla. Valsecchi. Vincelli. 23 presenti. Aiosa. Fiorino. Presente. La Miranda. Lanzoni. Marcella. Nisco. Paterna. Pizzocchera. Abbiamo il numero regale, quindi possiamo procedere. Ci alziamo in piedi per l'inno nazionale. Ci cantiamo. Ci alziamo in piedi per l'inno nazionale. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, la ricognizione dei servizi pubblici locali è una nuova disciplina che introduce l'obbligo per i comuni a partire dal 2023 di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Questa ricognizione deve attestare in modo analitico per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato il concreto andamento dal punto di vista economico dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati all'interno del relativo contratto. La ricognizione va effettuata tenendo conto di quelli che sono gli indicatori del decreto, ossia per quanto riguarda i servizi a rete dei parametri predisposti dalle varie autorità di regolazione, mentre per i servizi non a rete dagli indicatori predisposti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. Allora, per quanto riguarda vanno indicati quindi gli affidamenti senza procedura con evidenza pubblica di importo superiore alle soglie, gli affidamenti di società in house con riferimento ai servizi e alle società in house deve essere dato conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi che si giustifichino il mantenimento dell'affidamento per l'anno di competenza. Per quanto riguarda la modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione che è allegata ad aggiornare ogni anno contestualmente la delibera in oggetto. La delibera 245 del 6 dicembre del 23, con questa delibera, l'aggiunta comunale ha individuato quello che è il perimetro della ricognizione dei servizi pubblici locali, individuando per quanto riguarda i servizi a rete per i quali la relativa autorità di regolazione d'ambito lato per il servizio idrico integrato ha inoltrato una relazione, ha trasmesso la relazione dell'attività svolta al comune, mentre per quelli non a rete per i quali ovviamente il ministero del Made in Italy e delle imprese ha adottato lo schema contenente gli indicatori di qualità, sono stati inseriti tutti gli appalti relativi a parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico, rifiuti, trasporto pubblico locale e basta. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale di approvare le relazioni di ricognizione dei servizi pubblici locali allegati alla delibera e a firma dei dirigenti per quelle non a rete, mentre per quelle a rete dal lato per quanto riguarda i servizi idrico integrato. Grazie. Grazie Sindaco, apro a questo punto la discussione ricordando i tempi come da regolamento, dieci minuti per ogni consigliere, più eventuali dieci minuti a doppio tempo. Vi chiedo di prenotarvi con alzata di mano, qualora qualcuno volesse intervenire. Passo la parola al Consigliere Maderloni. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, gli assessori, il sindaco, chi ci segue in presenza e da casa. Come anticipato, in una interlocuzione telefonica oggi ricorre il sesto anniversario dalla scomparsa di Andrea Rivol, è stato capogruppo del nostro gruppo nelle stagioni passate, vice sindaco e soprattutto un esponente del territorio locale. Quindi volevo spendere una parte del mio tempo per ricordare la sua figura, che per noi è un esempio importante di buona politica al servizio della comunità, di persone che si è sempre impegnata per la propria comunità e un sese d'adozione. In particolare, credo che sia importante ricordare un progetto che sta andando avanti, che è quello del Baskin, che ha fortemente evoluto e che ha ampliato l'offerta in città sportiva per tutti i ragazzi e le persone. Il Baskin in particolare è un perfetto esempio di connubio tra persone con variabilità. Quindi credo che sia giusto cogliere l'occasione anche della coincidenza per poterlo ricordare come Partito Democratico e penso e spero possiate, pur magari non condividendo alcune scelte ed opinioni politiche, riconoscere la caratura politica che Andrea ha espresso sia in questi banchi ma anche nelle sedi e nelle file dei partiti in cui ha militato e in particolare dei democratici di sinistra, di cui è stato per tanti anni segretario cittadino. Detto questo, passo a una valutazione che noi come gruppo del Partito Democratico abbiamo fatto sulla delibera in oggetto e non riprendo ciò che avevamo già detto in commissione, ovvero sugli errori che ci sono nel testo che ci è stato sottoposto e che chiedo scusa se fosse stato arrivato corretto oggi in giornata, ma non ci sembra. Quindi noi apprezziamo il fatto che questi strumenti vengano adottati dalle pubbliche amministrazioni perché ci permettono di approfondire meglio e in maniera anche puntuale, qualora fosse poi completa di tutta la documentazione che ci è stata spiegata in commissione, i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Crediamo che sia uno strumento che aiuti e spinga soprattutto questi enti e l'amministrazione a vigilare e ai cittadini poter anche capire come possono funzionare questi servizi. Le uniche rilevazioni che aggiungo e che in qualche modo ci costringono per una valutazione politica che speriamo non sia la cifra che prosegue essendo questa la prima volta di offrire uno spunto e uno stimolo all'amministrazione con il nostro voto di astensione che permetta all'anno prossimo di poter avere una relazione che sia più dettagliata, più completa e non riporti degli errori visto che poi viene trasmessa in ANAC come ad esempio il tema dello scuolabus che finisce sotto la voce della raccolta dei rifiuti. Crediamo che sia importante visto che dobbiamo esprimere un voto e quindi soprattutto trasmettere agli enti competenti la documentazione che ci sia proprio la volontà di far emergere in maniera chiara la puntualità, la precisione con cui vengono fatti questi strumenti pur essendo nuovi e quindi è giusto che politicamente però questa accuratezza ci sia. E quindi facciamo presente questo e questo si somma già alle osservazioni fatte in commissione quindi io termino qui il mio intervento e vi ringrazio. Grazie a lei Altri interventi in aula? Prego, posiziona Pagani Sì, grazie presidente ma anche io saluto ovviamente tutti i colleghi e le persone presenti in aula e le persone che ci seguono da casa allora cercherò di, e anzi ci riuscirò di stare dentro i dieci minuti di tempo poi va bene sappiamo che c'è il raddoppio ma lo voglio considerare un impegno rispetto alla discussione che ci sarà oggi perché rispetto alle tre delibere che vengono presentate non abbiamo diciamo rinvenuto grosse problematicità e quindi ci sembra giusto che anche una riduzione del come dire, pur essendo delle delibere importanti però una riduzione di tempi ci possa mettere poi nella condizione eventualmente di discutere le emozioni che sono sempre lì appese e sempre consegnate e presentate nell'aula istituzionale diverso ormai tanto tempo fa ovviamente prima di iniziare anche io colgo l'occasione per ricordare anche se sicuramente questa giornata non è la giornata migliore di Andrea Rivolta perché appunto è stata una persona importante che si è spesa molto per questa città e credo che un luogo migliore per ricordare che si spende in ambito istituzionale non possa che essere il consiglio comunale non è un mistero per nessuno che Andrea fosse anche un mio amico quindi rinnovo insomma questo ricordo è un affettuoso e caloroso saluto anche alla sua famiglia in merito alla delibera sulla ricognizione dei servizi pubblici locali il ragionamento abbiamo cercato di fare come lista civica come città in comune un ragionamento partendo dal presupposto questo l'abbiamo ascoltato evidentemente in commissione partendo dal presupposto che questo può un anno zero e quindi è la prima volta che noi facciamo questa ricognizione dei servizi pubblici quello che abbiamo appurato che le amministrazioni comunali debbano effettuare questa ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici che hanno una rilevanza economica nei rispettivi territori abbiamo anche appurato perché ci è stato presentato in maniera dettagliata direi in commissione che la ricognizione è una ricognizione complessa perché appunto si trova a dover monitorare il concreto andamento sia dal punto di vista economico dell'efficienza e della qualità dei servizi e lo fa anche come dire attraverso il monitoraggio di quelli che sono gli obblighi del contratto abbiamo capito che essendo un anno zero non esisteva un modello specifico e unico a cui fare riferimento ma che diversi erano i modelli che non tutti i modelli avevano gli stessi parametri che c'erano parametri differenti e che addirittura si fa riferimento come diceva appunto il sindaco nella sua relazione anche a parametri diversi a seconda che i servizi siano a rete e non a rete quindi abbiamo da questo punto di vista intravisto e lo voglio sottolineare uno sforzo da parte dell'amministrazione comunale perché questa è appunto una ricognizione obbligatoria e come tale ha un senso però una ricognizione che parte sostanzialmente da quest'anno su che cosa ci siamo un po' interrogati su qual è l'utilità di questa ricognizione partendo dal presupposto che essendo obbligatoria ha di per sé una sua utilità perché altrimenti non l'avrebbero evidentemente nemmeno pensata ma diciamo come ricavale meglio da un'obbligatorietà su questo un po' ci siamo interrogati quindi questa ricognizione non è solo nei fatti un monitoraggio di un andamento del servizio ma può essere, pensiamo, potrebbe essere anche un ottimo strumento anche utile per andare proprio perché io monitoro i servizi a questo punto per andare ad intercettare con una maggiore rapidità anche quelle che sono le difficoltà che si intravedono proprio all'interno dei servizi questo perché se io li monitoro una volta all'anno è molto diverso è molto più, come dire, orientato all'efficienza che se io lo faccio una volta ogni 5 anni quindi rispetto a questo aspetto cioè quanto ci è utile e come possiamo utilizzare questa ricognizione che mi sembra sia non mi sembra che sono certa sia la discussione di questa sera cioè noi dobbiamo esprimere un voto sulla ricognizione fatta non un commento sui singoli servizi perché non è questo il senso ecco quello che abbiamo pensato è come rendere utile questo strumento e da questo punto di vista per esempio ci siamo resi conto che rispetto ai servizi che sono legati al PERF e quindi al piano economico finanziario monitorarli significa verificare come procedono se procedono bene se reggono perché noi stessi abbiamo visto anche all'interno del nostro territorio che ci sono piani economici finanziari che partiti da condizioni iniziali poi nel processo evidentemente non hanno retto ci sono anche altri servizi che lanciano un po' dei segnali insomma all'interno di questa relazione è sicuramente la posizione di APCOA una posizione come dire tranquillizzante da un certo punto di vista quindi monitorare diciamo annualmente questi servizi ci dà l'opportunità di capire meglio e prima se ci sono dei problemi e di poter intervenire nella maniera più costruttiva possibile serve a noi prima di tutto come amministrazione comunale serve anche agli operatori perché nel momento in cui noi svolgiamo un'azione di controllo nei confronti degli operatori speriamo quantomeno che gli operatori come dire agiscano sapendo che sono controllati maggiormente non che non lo siano non lo siano mai stati ma dal nostro punto di vista potrebbe essere anche la possibilità di costruire degli indicatori che nel tempo proprio perché rimangono e si rivelano efficaci ci danno la possibilità di monitorare in una maniera sempre più rapida i servizi da questo punto di vista una delle cose che abbiamo trovato un po' deficitarie mettiamola così all'interno di questa relazione e che quindi speriamo possano migliorare considerando come abbiamo detto che questo è l'anno zero è tutta la parte relativa diciamo così al monitoraggio dell'andamento legato scusate in monitoraggio legato all'andamento economico e alla qualità dei servizi nella ricerca insomma della documentazione di più documentazioni che ci aiutassero un po' a capire abbiamo trovato insomma una serie di modelli che sottolineavano la possibilità come dire di esprimere anche all'interno delle relazioni per quanto riguarda per esempio l'andamento economico sul contratto di servizio così procapite così complessivi i ricavi complessivi piuttosto che per quanto riguarda la qualità del servizio che sempre riferiti al contratto di servizio una qualità contrattuale che non è una roba indifferente piuttosto che altri termini che però sono anche termini quantitativi compresa la soddisfazione dell'utenza ecco pensiamo che il poter come dire aggiungere nella concretezza questi dati monitorarli e paragonarli anche perché addirittura all'interno di questo schema che abbiamo trovato che è stato preparato dall'ANCI e poi è adottato anche dall'ANAC che si chiama quaderno utile diciamo così e che portava poi una serie di schemi che potevano essere utilizzati sicuramente questi dati ci permettono di avere una maggiore garanzia di trasparenza o almeno così noi lo abbiamo interpretato e quindi ci dà l'opportunità come amministrazione comunale di essere come dicevo prima sicuramente più efficiente di lavorare sulla previsione e proprio per questo anche su quella che viene chiamata poi la prevenzione laddove ci sono delle difficoltà e i PEF a cui mi riferivo prima possono essere un esempio e sicuramente sono anche un atto di maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini grazie grazie a lei se la pagani ci sono altri interventi in aula non ci sono altri interventi prego se la pagani ha la parola buona sera grazie 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 signor presidente buonasera a tutti ma salto un po' l'incipit perché l'hanno già detto in tanti questo è l'anno zero per me l'anno uno è un documento completamente nuovo ringraziamo il decreto legislativo che ci offre questa ulteriore opportunità per effettuare un controllo sui servizi che vengono erogati alla nostra comunità e quindi ne faremo un miglior uso di qui a venire i prossimi anni per quest'anno facciamo facciamo degli esperimenti facciamo una prova no? naturalmente non mi soffermo sugli sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica così come viene detto nella delibera che riguardano gli enti sovracomunali e più specificatamente il gas il servizio idrico integrato e l'ultima è il trasporto pubblico è il trasporto pubblico locale qualche riflessione magari sui servizi sui servizi che sono posti in in attenzione all'attenzione nostra questa sera e che riguardano certo un servizio pubblico a rete che è i rifiuti e per quanto riguarda poi gli impianti sportivi servizi cimiteriali eccetera allora è logico che questo è un documento che servirà a certificare meglio la situazione gestionale dei servizi che ho appena ricordato dal punto di vista come dice il decreto legislativo dell'economia e qualche dato su questa delibera ce l'hanno dato anche perché erano gli unici dati certi che avevamo ma naturalmente non abbiamo molti ritorni per quanto riguarda l'efficienza e la qualità del servizio che sono gli altri due elementi previsti nel decreto legislativo e che obbligano l'amministrazione comunale comunale a relazionare in merito lascio perdere naturalmente il rispetto degli obblighi contrattuali che questo salvassandire è una cosa prevista nel normale rapporto tra pubblico e privato allora ho visto il documento e mi sembra mancano proprio completamente dati e informazioni come abbiamo detto in commissione relativo appunto al capitolo qualità ed efficienza del servizio che ci consentirebbe di commentare in modo positivo o negativo il servizio fornito ai cittadini fatto salvo evidenziare in questa sede alcuni commenti di qualche cittadino che magari lamenta un disservizio in alcune zone quasi sempre periferiche ad esempio sulla raccolta dei rifiuti ma l'abbiamo accennato anche in commissione naturalmente lascia il tempo che trova essendo il parere di uno o due o tre cittadini è logico che un report su questo servizio fatto sul tempo lungo e su un numero maggiore di rilievi ci consentirebbe di dare una valutazione più corretta del servizio certo il servizio comunque che è tutto a carico dei cittadini presenta qualche difficoltà difficoltà sulla raccolta dei rifiuti difficoltà mi è stata faccio delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini sulle deiezioni dei cani ripeto anche su questo pur apprezzando il sesso civico di alcuni cittadini più responsabili di altri però ci sono ancora zone zone della città dove i cittadini sono obbligati a una gincana per evitare di portare a casa ricordi poco poco graditi su questo su questo tipo di servizio io ringrazio il direttore che ci ha mandato non più tardi di qualche giorno fa un un resoconto delle controlli e verifiche fatte fatte nelle nelle vie cittadine e ho notato che ci sono diverse penali cioè ce ne sono mi pare una 13 14 penali elevati elevati penso alla ditta che fornisce il servizio non c'è la quantità di queste penali né c'è il tipo di disservizio che la città ha dovuto sopportare e quindi mi fermo solo a rilevare che c'è qualche penale che non è che non depone a favore dell'azienda che offre che offre questo servizio e ripeto sui rifiuti che è un tipo di servizio che è utilizzato da tutti i cittadini sestesi e che tutti i cittadini sestesi possono commentare nel momento in cui vanno a passeggio a passeggio per la città risultano penali anche nella gestione cimiteriale con sufficienti informazioni che ci consentono di lamentare un malfunzionamento del servizio in una parte del territorio che è particolarmente cara ai cittadini sestesi perché i cittadini si recano al cimitero per ricordare i propri cari e prestano cura ed attenzione al luogo in cui è stato interrato inumato il proprio il proprio parente si aspetterebbe naturalmente che la stessa cura e la stessa attenzione che il cittadino presta sulla tomba del proprio parente sia esibita anche da chi deve gestire gli spazi pubblici o deve curare l'inumazione piuttosto che la tumulazione e mi pare che dalle rilievi dalle penali fatte pare di ricordare non so io non presenza sul lavoro da qualche da qualche persona da qualche dipendente poca cura magari nel gestire il verde nel gestire certi spazi ed è ed è una cosa di cui tener conto signor sindaco nel momento in cui andiamo andiamo a ridiscutere con questa azienda la gestione la gestione di quello spazio vado vado la conclusione perché volevo ricordare un po' a tutti noi comunque facendo riferimento al decreto legislativo che lamenta tutte quelle assenze di informazioni di prestazioni di tabelle diciamo per poter valutare il servizio che hanno già ricordato i consiglieri che mi hanno preceduto che però è uno strumento interno che ci permette ripeto di valutare al meglio l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini articolo 3.2 ma un'altra cosa importante è articolo 3.3 del decreto legislativo dove si dice nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi puntini puntini salto una parte poco che meno interessa è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente anche favorendo forme di partecipazione attiva allora è logico che se noi aspettiamo per i servizi non a rete mi pare che la delega per dare degli indicatori compete allo staff della presidenza del consiglio o comunque agli uffici che fanno capo alla presidenza del consiglio io ho paura che campacavallo che l'erba cresce dicevano una volta però nelle more comunque che arrivino questi indicatori che ci permettono di valutare i servizi non sarebbe brutta cosa che l'amministrazione si dotasse di un atto interno dove poter istituire dei criteri che consentono comunque a noi fatto salvo che se poi arrivano quelli di carattere governativo Ubi Maior Minor Cessat utilizzeremo quelli però in assenza qualcosa dobbiamo inventarci da qui al prossimo anno quindi se magari si mette in piedi uno strumento che ci permette di dare di fare queste valutazioni indipendentemente da quello che ci invierà il governo sarebbe cosa cosa gradita concludo dicendo che a chi poi non perde occasione per ricordarci che per queste cose di cui stiamo discutendo stasera esiste la commissione di controllo ricordo che la commissione di controllo ha il compito di accertare verificare la corretta attuazione del programma del sindaco che per carità ci sta dentro anche questa roba qui ma non è esclusivamente questa roba qui e che è quindi altra cosa dalla discussione della delibera di questa sera grazie grazie a lei altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula a questo punto chiudo la discussione passo la parola al sindaco per la replica preos sì grazie presidente ringrazio del contributo e dei contenuti aggiuntivi rispetto a quelle che è stata nella commissione dove in un primo momento era sembrato quasi di dover ridiscutere il documento unico di programmazione ma poi è stato spiegato anche dai tecnici che era una relazione su quelli che sono i servizi non a rete quindi un primo livello essendo poi l'anno zero come costituzione del documento senza nessun modello specifico di riferimento magari anche questa volta il comune di Sesto diventa un punto di riferimento anche per gli altri comuni essendo noi uno dei primi comuni ad aver elaborato e predisposto questo modello e consentitemi di ringraziare il direttore e gli uffici tecnici che hanno contribuito alla stesura di questo nuovo modello in risposta giusto per chiarire a scanso di equivoci io tengo molto conto di questi che sono le contestazioni e sono le penali così come è previsto nel codice degli appalti ovvero come fa un'amministrazione comunale a misurare e a verificare innanzitutto esiste all'interno di un procedimento il responsabile unico del procedimento che è il RUP e c'è poi il direttore il DEC che sono quelli predisposti dall'amministrazione comunale al presidio dell'appalto poi c'è da definire all'interno del codice degli appalti a seconda della tipologia di servizio che viene appaltato o meno o della concessione che viene concessa o meno ci sono tutte le procedure tra la contestazione e la penale perché molto spesso si fa una contestazione nella ditta ha a disposizione 24 48 ore 72 ore a volte per intervenire e risolvere allora c'è una contestazione non c'è una penale ma per me come sindaco ma per l'assessore il direttore anche analizzare quello che è la differenza tra la contestazione e la penale è importante perché se abbiamo emesso facciamo un esempio alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti cento contestazioni che diventano tre penali bisogna riconoscere che hanno una capacità di immediata di intervenire su segnalazione e secondo me la cosa importante oggigiorno i comuni ormai sono diventati dei controllori di servizi che danno all'esterno è importante che su tutti i servizi che vengono concessi o messi in appalto un'amministrazione e questa è una volontà politica abbia degli uffici strutturati per il controllo e per la contestazione perché oggi il comune deve far quello non entro in polemica ma non vi dico che cosa ho trovato nel 2017 cioè voi vi ricordate chi c'era prima di quest'operatore sulla raccolta dei rifiuti e non c'erano penali non c'erano contestazioni quindi ma su quello così come su le manutenzioni su molte attività molti appalti non c'erano proprio quindi secondo me la gestione di un'amministrazione comunale è strutturare degli uffici in maniera che si garantisca il rispetto del capitolato e rispetto dell'appalto e ovviamente deve essere scritto in maniera corretta il capitolato e tutto l'appalto e aggiudicato in maniera trasparente senza poi avere società che chiedono come è successo a Sesto l'annullamento anticipato del contratto solo perché abbiamo iniziato a controllarli perché prima non erano controllati allora l'appalto gli andava bene nel momento in cui li abbiamo controllati chiedevano l'annullamento anticipato allora lì uno dice forse sarebbe stata meglio un po' più di trasparenza all'origine strutturare gli uffici affinché un appalto a 15 milioni come quello l'appalto più importante che è il comune di Sesto che è la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere presidiato dal pubblico e dai cittadini non può essere lasciato in balia o in autogestione del concessionario che subentra magari giocando con la brutta il brutto il metodo del massimo ribasso quando poi in realtà il massimo ribasso si traduce in spero che non mi contestino o che non facciano controlli quindi gli indicatori per un sindaco per una giunta per un direttore ma per tutta un'amministrazione ci sono ci sono attraverso gli uffici attraverso il RUP attraverso il DEC attraverso l'analisi di quelli che sono le compensazioni tra la contestazione e la penale io credo che poi adesso a me non piace molto far lavorare a vuoto gli uffici dicendoli predisponete in linea teorica dei processi di misurazione quando già ce li abbiamo e quando magari il ministero il tempo che noi iniziamo a lavorarci dietro già li emette però noi gli indicatori sapendo leggere un codice un capitolato un appalto avendo degli uffici dei professionisti dedicati ai singoli appalti stessi non abbiamo bisogno di ulteriori percorsi di valutazione del singolo appalto perché già ce li abbiamo con quelli che sono gli strumenti forniti dal testo unico degli enti locali dal codice dell'appalto e da tutta la normativa in essere grazie procediamo a questo punto con la dichiarazione di voto ricordo i due minuti città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente ci metterò anche meno di due minuti il nostro voto di astensione reinventiamo sesto consiglierandi buonasera a tutti anche per noi un voto di astensione alleanza verdi sinistra consigliera Foggetta buonasera sì come già detto questo è l'anno zero l'anno uno come si diceva prima per un documento di questo genere che è di sicuro un aiuto un grosso aiuto per i consigli comunali è di sicuro è qualcosa che ci può ci può essere utile ci potrà essere utile non avremmo nulla in contrario contro il votare a favore di questa delibera il grosso problema lo abbiamo detto in l'ho detto in commissione qualche giorno fa è quel qualcosa che non mi torna rispetto al conferimento in out dei servizi trattamento e smaltimento e recupero della forsu dato a 0c per il quale dicevo in commissione e sono andato a recuperare la sentenza c'è una sentenza che parla di dice espressamente il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la deliberazione del consiglio comunale di Sesso San Giovanni numero 3 del 24 gennaio 2023 non è non è una non è una no 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 ce l'ho qui davanti ce l'ho qui davanti no no ce l'ho qui davanti e se vuole gliela leggo se mi lascia un attimino di tempo il presidente gliela leggo perché non c'è per la parte dice annulla la deliberazione del consiglio comunale di Sesso San Giovanni numero 3 del 24 gennaio 2023 semplicemente ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e va avanti non c'è una parte parla di tutta la delibera leggendo la sentenza la questione non è di una gravità alta si parla di mancanza di motivazioni che giustificano il conferimento in aus quello che però ci lascia un po' così è che in questa relazione che in questo documento il riferimento ad un annullamento da parte di un tribunale amministrativo regionale di una delibera era una cosa secondo noi che andava trattata che andava menzionata che andava detta ai consiglieri e ai consiglieri e ai cittadini e ai cittadini per questo il nostro voto sarà di assenzione Lega Salvini Premier consigliera Pini Grazie Presidente il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliera Cupido Grazie Presidente buonasera a tutti anche noi votiamo favorevolmente Partito Democratico consigliere Maderloni chiedo scusa consigliere Cagliani Sì grazie il suo presidente ho dimenticato un pezzettino nell'intervento ne approfitto prima rispondo al sindaco ma visto che le giunte precedenti era giunte in cui l'anarchia imperava ognuno faceva quello che voleva e non c'erano controlli io non ricordo interventi visto che c'ero per una parte se non tutta non ricordo i grandi interventi dell'opposizione che hanno cavalcato questa mancanza di controllo per dare del crucifige del crucifige alle amministrazioni in essere quindi probabilmente anche l'opposizione o non faceva bene il suo lavoro o non aveva rilevato tutte queste manchevolezze che vengono denunciate denunciate ora l'ultima cosa motivando ulteriormente il voto di astensione da parte del gruppo è che ad esempio nella scheda delle piscine dove si parla nelle modalità e frequenze del monitoraggio risulta che l'affluenza ai centri natatori è soddisfacente anche se vi sono ancora alcuni timori in molti fruitori degli impianti provenienti dalla stagione epidemiologica e al contempo si registra una capacità di spesa dalle famiglie per lo sport e il tempo libero che deve scontare l'andamento inflazionistico sui beni di consumo di prima necessità così come il rincaro dei costi abitativi che in pratica dice impediscono un accesso più frequente più numeroso alle piscine qualche preoccupazione questo commento qui me lo pone visto che c'è un precedente da parte della ditta privata che ci ha ridato indietro la piscina a Marzabotto lamentando delle difficoltà nel garantire il rispetto del contratto e la gestione delle piscine quindi il voto del gruppo è di astensione grazie gruppo misto consigliere Vincelli grazie presidente buonasera a tutti presenti buonasera ai cittadini presenti qui in aula e a chi ci sta guardando ecco su questa delibera secondo me bisogna fare un po' di chiarezza perché la delibera è molto chiara è ricognizione servizi pubblici locali di cui l'articolo 30 riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rivelanza economica cioè che vuol dire io leggendo in questo modo faccio un elenco di tutti di tutte le aziende che sono presenti sul nostro chiaramente territorio che forniscono servizi alla cittadinanza dopodiché chiudo e vado a riportare quello che possono essere cosa ha fatto di buono cosa ha fatto di malvagio all'interno chiaramente delle commissioni e per quello che secondo me l'organo di controllo la commissione di organo di controllo di cui voi avete la presidenza sarebbe opportuno visto che ancora non è stata visto che ancora non è stata convocata di convocarla allora lì secondo me giustamente nella precedente amministrazione c'era il commissario il presidente piano il quale ha fatto esporre e ai vari assessori le varie tematiche e in quella sede ci sono fatti anche anche i conti no? di quello che effettivamente noi comunque avevamo in parte in parte ereditato e di quello che pian piano abbiamo costruito quindi invito nuovamente il le minoranze di usare chiaramente questa commissione tra l'altro l'unico uno dei pochi su cui ho chiesto chiaramente l'incontro visto che poi anche altri assessori scusate altri consiglieri di minoranza hanno chiesto chiaramente un incontro all'assessore Fiorino dove ci ha illustrato una serie di servizi che venivano fatti e a cui abbiamo poi richiesto ulteriormente dei disservizi che c'erano anche nelle nostre zone ecco questo secondo me è stato chiaramente un incontro purtroppo non era una commissione non era una commissione di organi controllo questo secondo me è la strada che si può intraprendere il voto è favorevole grazie abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente buonasera a tutti consiglieri cittadini presenti e in remoto una considerazione così quella che io definisco meditazioni io non ricordo onestamente tutta onestà se l'opposizione ai tempi avesse avuto un atteggiamento così aggressivo nei confronti di queste manchevolezze e nefandezze come sono state definite questo non lo posso sapere posso sapere cosa abbiamo trovato quando abbiamo aperto i cassetti però dei conti perciò insomma prima di fare dell'ironia su queste cose bisognerebbe pensarci un attimo comunque al di là di tutto questo il nostro voto sarà favorevole grazie fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente grazie presidente saluto tutti i presenti e collegati e faccio un ringraziamento e mi complimento con gli uffici tecnici in particolar modo con l'architetto Margutti per il lavoro svolto e le relazioni scritte e dichiaro il nostro voto favorevole Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente permetto che il nostro voto è favorevole solo una considerazione fa piacere essere tra i primi comuni a implementare una normativa sana che formalizza la necessità di un metodo di controllo di quanto attuato tramite bandi affidamenti eccetera questo sistematizza il lavoro fatto da questa amministrazione che si era già organizzata ovviamente partendo da subito per fare i controlli quindi questo è un metodo come dire condivisibile condiviso attuabile e già attuato per questo motivo il nostro voto è favorevole grazie a tutti procediamo a questo punto con la votazione della delibera procediamo per alzata di mano favorevoli contrari astenuti con sedici voti favorevoli otto astenuti la delibera viene approvata procediamo sempre per alzata di mano con per la votazione dell'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti astenuti con sedici voti favorevoli otto astenuti la delibera diventa immediatamente eseguibile procediamo con la seconda proposta di delibera all'ordine del giorno individuazione dell'attività volte ad avviare la produzione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili cosiddette CER abbiamo in questo caso relatore Vincenni dalla commissione la parola grazie presidente allora il 2024 si prospetta come l'anno di svolta per il mercato energetico italiano dopo il benestare un'unione europea siamo in attesa di un quadro normativo definito per lo sviluppo della CER il decreto è stato firmato dal ministro dell'ambiente della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin lo scorso 6 dicembre siamo ora in attesa del parere della corte dei conti vede proprio nell'articolo 1 comma 1 i suoi obiettivi le modalità di incidivazione e la possibilità di attingere al PNRR la comunità energetica rinnovabile è una comunità che ruota attorno alla condivisione dell'energia prodotta e ha una gestione migliore di quella consumata si tratta dunque di una vera e propria associazione che decide di impegnarsi nella produzione di energia verde e che ha come obiettivo quello di ridurre al massimo gli sprechi energetici è obiettivo di questa amministrazione lavorare per la creazione di una CER nella città di Sesto San Giovanni supportata da regione Lombardia già con decreto 11.097 del 27 luglio 2022 che coinvolga le aziende del territorio ma non solo per poter essere tra i pionieri in Italia di una migliore efficienza energetica i vantaggi si ripercuotono su tutta l'area contrastando così la povertà energetica e creando cultura ambientale e educazione sulla gestione e l'uso dell'energia elettrica nel rispetto delle normative europee facciamo presente che sul Sesto solo 19 famiglie in un anno hanno richiesto supporto per povertà energetica il piano di aiuti pubblici italiani che ha già finanziato in parte attraverso il PNRR prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di euro destinati a sostenere l'autoproduzione e il consumo di energie rinnovabili la potenza dei singoli impianti non potrà superare il megawatt il decreto italiano di cui siamo in attesa dell'attuazione è incentrato su due misure una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto la potenza finanziabile è pari a 5 gigawatt complessivi con un limite temporale fino al 2027 alcuni dati stima consumo del comune di Sersa San Giovanni per quanto riguarda i suoi immobili il consumo stimato anno 2024 di energie elettriche è pari a 4,346 gigawatt assumendo di utilizzare la media del periodo dal secondo trimestre ad oggi proiettandola chiaramente sul 2024 ne deriva un costo medio di 0,2528 euro kilowattora fate conto che 4,346 sono 4 milioni di kilowattora determinando una stima di costo complessivo annuale 2024 per tutti i pod intestati al comune di euro 1 milione 98 976 con la proposta di delibera 275 2024 comma 11 proprio a comma 11 abbiamo individuato le varie fasi di attuazione del CER i nostri uffici tecnici provvederanno all'individuazione delle aree di proprietà comunale nonché degli immobili sulle quali allocare gli impianti energetici alimentati da fondi rinnovabili principalmente fotovoltaici dopodiché partiranno dei progetti pilota sulle suddette superfici funzionali alla promozione di processi partecipativi pubblici rivolti alla raccolta di adesione alle rispettive costituende CER coinvolgendo dunque le aziende del territorio avvieremo si avvieranno dei procedimenti pubblici rivolti alla raccolta di adesioni al CER in qualità di produttori ricordiamo che la partecipazione alla comunità è sempre aperta e volontaria già proprio nell'articolo 31 lettera del decreto del 199 2021 i membri di una CER dovranno possedere o fruire o soltanto fruire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e in tal modo coprire completamente o almeno in buona parte i loro consumi una volta effettuata la valutazione del modello giuridico per la gestione del CER il Consiglio Comunale ne approverà la Costituzione nonché la progettazione di sviluppo degli impianti sulle aree pubbliche comunali il CER andrà presentato infine al GSE che è il garante bonotore dello sviluppo sostenibile al Paese che avvaluterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che su istanza dei soggetti interessati potrà eventualmente verificare l'ammissibilità in via preliminare ogni CER definisce le modalità di ripartizione di utilizzo e rinvestimento dei benefici economici ottenuti è chiaro che la previsione di rinvestimento in servizi alla collettività è premiante in quanto rispecchia le finalità di costituzione di una comunità energetica ogni azione proposta per sviluppo ingrandimento della comunità energetica ai fini sociali ambientali offerte di servizi rilascio di voucher rimborsi parziali o totali può essere considerato un servizio alla collettività in quanto consenti di generare un valore aggiunto per ciascun membro derivante dalla sua partecipazione al CER grazie per l'attenzione grazie a lei sindaco volete presentare la delibera no? a questo punto procediamo con l'apertura della discussione apro la discussione ricordo i dieci minuti per ogni consigliere più dieci minuti da doppio tempo qual è il consigliere vuole intervenire? allora la parola a CER grazie ringrazio il consigliere Vincelli per l'esaustiva eh relazione che ci introduce sul tema e la contestualizzazione noi ehm questo tema per noi per le forze centrosinistra che si sono presentate nel 2022 avevano come tema e attenzione il punto della delle comunità energetiche la necessità di addivenire verso un progetto un percorso che potesse portare anche a sesto questo tipo di di strumento abbiamo letto la la delibera con attenzione c'è stata anche discussione in commissione abbiamo ovviamente delle osservazioni implementazioni che poi saranno anche spiegate nell'ordine del giorno che abbiamo presentato come eh gruppi di di opposizione però vorrei spendere cinque minuti eh per una breve riflessione rispetto al tema e agli obiettivi che eh che l'Unione Europea ci dà per un futuro molto immediato perché l'Unione Europea in questo caso è stata abbastanza stringente con i tempi parla di avere un momento di verifica dei risultati dell'impegno verso la transizione ecologica che arriva al 2030 cioè poco più di sei anni poco meno di sei anni scusate e quindi per noi è importante che eh da questa delibera che è un primo un primo passo un primo passo importante siamo contenti che in questo modo la nostra città ci arrivi però crediamo che quel passo debbano seguire alcuni altri e soprattutto si possa andare maggiormente nel 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 lavorare su alcuni alcuni aspetti in particolare vorremmo capire rispetto ai ai individuati se in qualche modo c'è la possibilità e la e la l'attenzione dell'amministrazione comunale per garantire che tutti gli abitanti si possano poi collegare a questi ai questi chair primari che in qualche modo venga definito quanto prima dei timing di verifica delle varie delle varie azioni accogliamo con favore il fatto che l'amministrazione comunale in qualche modo possa assumere voglia assumersi la passatemi il termine la cabina di regia di questo progetto però chiediamo al tempo stesso che in qualche modo anche per un principio di di trasparenza e di anche di opportunità di informazione della città si possa creare come già stato fatto nel nei mesi precedenti su servizi diciamo di interesse pubblico come era quello del taxi magari una commissione in cui questo tipo di progetto venga periodicamente presentato con le fasi di avanzamento e una commissione magari che preveda la partecipazione anche dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione il tema ovviamente della dell'energia della sostenibilità dello sviluppo delle nostre comunità è un tema molto importante è un tema sul quale noi abbiamo presentato anche delle delle emozioni nel corso di questa consigliatura e crediamo che questo primo passo però richieda proprio perché per certi versi è anche un cambio culturale si possa in qualche modo fare in maniera condivisa in maniera chiara e partecipata permettendo anche di andare a intervenire rispetto a quelli che possono essere i bisogni del territorio e al coinvolgimento il più ampio possibile dei cittadini e quindi il nostro diciamo così anche come impegno che deriverà poi dalla presentazione dell'ordine del giorno è quello di sostenere questo percorso grazie grazie a lei altri interventi in aula prego se la pagano vale la parola grazie allora come ho detto prima farò un intervento breve per due motivi uno l'ho esplicitato già che è quello di avere la possibilità di discutere poi le emozioni che sono calendarizzate oggi e secondo perché questa è una delibera nella quale fin da ora mi sento di dire che città in comune voterà favorevolmente è molto interessante la discussione insomma che finalmente all'interno dei consigli comunali ma non solo all'interno delle istituzioni della regione insomma in questi anni si fa sulle comunità energetiche e devo dire che mi fa particolarmente piacere questa discussione immediatamente dopo il consiglio comunale sul bilancio nel quale avevamo sottolineato come questo aspetto delle comunità energetiche fosse rilevante dal punto di vista come dire del beneficio anche in ambito ambientale anche se non è l'unico che appunto la cura diciamo così ambientale della città passa attraverso delle azioni che abbiano un significato profondo e in questo caso anche l'opportunità di coinvolgere i cittadini oltre che in alcuni contesti addirittura visto le opportunità che ci sono come sottolineava il consigliere Vincelli anche di poterli in qualche modo aiutare partiamo dal presupposto quindi che le comunità energetiche sono questi gruppi di persone di soggetti che stanno insieme per la condivisione di un'energia prodotta da fonti rinnovabili e questo è uno dei primi aspetti forse quello più indicativo del carattere di innovazione di queste comunità perché producono energia pulita e contemporaneamente c'è una distribuzione e un consumo che cerca di essere il più sostenibile possibile ma oltre a un'idea di efficientamento energetico uno degli aspetti che secondo noi è più rilevante e interessante è anche quello legato all'equità dal punto di vista energetico che non è un aspetto da come dire sottovalutare o addirittura come dire secondo noi è uno anche di quegli aspetti da valorizzare è sicuramente una rivoluzione del sistema elettrico che sarà sempre più decentrato e quindi speriamo meno dipendente dalle fonti energetiche tradizionali ci aspettiamo e questi sono gli obiettivi che ci sono stati dati come paese come paesi come Europa ovviamente dal punto di vista ambientale la riduzione della dipendenza dei combustibili fossili ma anche la riduzione delle emissioni del gas è interessante da questo punto di vista oltre all'impatto ambientale rilevante che come dire dovrebbe occuparci e preoccuparci sempre di più il ruolo che le amministrazioni comunali possono avere in questo contesto che viene esplicitato insomma più volte anche all'interno della delibera stessa come un ruolo attivo perché se è vero che le comunità energetiche rinnovabili hanno come obiettivo primario quello di fornire benefici sia ambientali che economici che sociali a livello della comunità che appartiene sostanzialmente quindi ai soci che appartengono alla comunità il carattere proprio no profit quindi indicativo insomma di queste comunità li orienta verso un ampio beneficio ambientale sociale che non riguarda più solo i soci della comunità ma che si estende a tutta la comunità locale di riferimento siamo quindi molto contenti del percorso che stiamo intraprendendo prima di tutto come paese spingendo insomma però insomma speriamo che l'attivazione di tutte le istituzioni che sicuramente in questi ultimi anni anche per gli obblighi che ci sono ha subito un'accelerazione si tramuti evidentemente in nella capacità di essere all'altezza degli obiettivi che abbiamo sia come paese e evidentemente anche come città se mi posso permettere visto che prima il sindaco sottolineava il fatto che Sesto San Giovanni possa essere come dire esempio virtuoso dal punto di vista degli strumenti di ricognizione mi piacerebbe che lo fosse anche da questo punto di vista e che recuperasse in fondo un po' anche il carattere innovativo che questa città ha avuto anche nell'ambito della produzione tantissimi anni fa allora sicuramente l'attenzione c'è c'è anche un obbligo sicuramente i fondi ci sono non si può dire che come dire che regione non si sia a Rombardia da questo punto di vista non si stia impegnando c'è stata una manifestazione di interessi nel 2022 che ha avuto poi un esito nel credo vado a memoria ma sembra di ricordare abbastanza bene in novembre del 2023 alla quale alcuni comuni hanno partecipato non tanti a dire la verità sicuramente noi non c'eravamo ma come noi non c'erano tanti altri comuni quelli che probabilmente sono riusciti a partecipare sono quelli che avevano già dentro la testa e dentro gli uffici e dentro il pensiero insomma nel tempo costruito un percorso più strutturato che gli ha permesso di essere pronti in quel momento in cui c'era questa manifestazione di interesse ora però proseguiamo io voglio dire che l'ordine del giorno che abbiamo presentato quindi la chiudo qui perché poi su quegli elementi che mi piacerebbe approfondire abbiamo scelto comunque lo strumento dell'ordine del giorno ecco l'obiettivo è quello come dire di arricchire sicuramente l'inizio di questo percorso da parte ovviamente nostra e di chi ha presentato l'ordine del giorno grazie grazie a lei altri interventi in aula prego grazie grazie presidente allora due parole su questa su questa delibera che ha che sottende delle caratteristiche molto tecniche in particolare sull'avvio all'attuazione di comunità energetiche che è proprio un avvio come ci stiamo dicendo nel senso che non è ancora tutto fissato non è ancora tutto già quadrato a partire dalla dimensione della comunità ovvero sia a cosa sottostà la comunità tecnicamente nel senso che soprattutto nelle grandi città che non sono dei paesini il punto è come radunare la comunità da un punto di vista tecnico sotto per esempio le cabine di media e nelle città come la nostra ce ne possono essere più di una ovviamente detto questo chiaro che è condiviso l'obiettivo l'obiettivo Horizon 2030 discende dall'Europa per arrivare dall'Europa fino a Sesto San Giovanni è passato qualche anno ovviamente perché è appunto normativa complessa regione Lombardia si è mossa subito devo dire noi cerchiamo di muoverci ancor prima che subito cioè alla prima occasione utile nel 2024 ora per fare questa cosa però il punto stante l'obiettivo di questo di questa di questa delibera che appunto è indirizzare e farsi promotore il punto che il promotore è chi normalmente consuma tanto e ha tanta disponibilità di produrre è l'insieme di queste due cose perché se no siccome la produzione principalmente è pannelli fotovoltaici uno dice vabbè allora vado in Puglia lì c'è un sole dell'accidente e è fantastico la differenza è che lì magari c'è un consumo che non è quello di Sesto San Giovanni perché devo andare a Bari per trovare il consumo di Sesto San Giovanni quindi il punto è trovare questo equilibrio perché il comune promotore perché il comune è un'unità che fa partire che ha già un consumo rilevante che può far partire una comunità di questo genere e che può radunare sotto questa ala può far associare sotto questa ala chi può produrre ma chi può produrre non è che è il cittadino che mette il pannello fotovoltaico come si è visto sui giornali sul suo terrazzo perché questo cittadino se attacca al pannello fotovoltaico non è che automaticamente viene nella comunità energetica però appartenere alla comunità energetica evidentemente deve essere un'entità che può scambiare a sua volta verso la comunità quindi tra virgolette è un po' lasciatemi il termine poco democratica la comunità inizialmente per partire poco democratica perché prende le entità grosse quindi il comune da promotore va col suo dopodiché ci si associa chi riesce a associare cosa immagino immagino quello che c'è la palestra quello che c'è il cappannone la piccola impresa che può mettere metri quadri metri quadri sui tempi dopodiché a partire da questo coso evidentemente evidentemente tutto il tema si gioca sullo scambio cioè che problema risolve questa normativa risolve il problema che io non posso accumulare cioè normalmente uno non accumula quindi mette in rete quello che venderebbe che venderebbe a prezzo stracciato perché uno se oggi ha la villetta mette sul pannello fotovoltaico mette un contatore di scambio compra a 10 e vende a 1 quindi non gli conviene gli conveniva quando incentivavano i pannelli fotovoltaici c'era l'incentivo dell'Unione Europea dopodiché questa roba qua è mezza morta perché o usa questa roba qua oppure l'accumulo gli costa talmente tanto che non va la pena quindi risolve tipicamente o le entità grosse o le aziende cosa si qual è il vantaggio al di là di quelli che possono essere gli incentivi lato PNRR il vantaggio è che se il comune mette dentro questa fa partire questa cosa tutto quello che sta sotto l'ala comunale ne beneficia quindi tutto quello che possono essere le spese delle scuole dell'energia delle scuole delle case comunali eccetera eccetera già sul condominio ci troviamo in difficoltà perché il condominio deve fare un grosso impianto e fare un grosso investimento per entrare nella comunità energetica devono essere d'accordo tutti quanti eccetera eccetera morale della favola e finisco perché se no la tiro troppo lunga sulla parte tecnica morale della favola è che poi dopo ne parleremo anche probabilmente nell'ordine del giorno non è che improvvisamente facciamo partire questa cosa e risparmiamo allora facciamo del bene all'ambiente questo è tacito penso che sono tutti d'accordo ma risparmiamo dei soldi e poi possiamo ridistribuirli a chi ha povertà energetica ma magari chi ha povertà energetica che casualmente sta anche magari nella casa comunale perché sta povertà povertà non può pagare ma sta anche si vede ridotta il costo delle spese condominiali della bolletta di qualche è magari nel futuro andremo come in altre nazioni più elettrico meno gas per cucinare e quant'altro quindi questa è un po' la finalità sulla finalità penso che siamo tutti d'accordo sulla attuazione siamo qua è un vanto essere qua già stasera da subito non è ancora tutto quadrato perché deve essere ancora quadrato questa questione delle cabine dove ci si collega come si collega eccetera eccetera piuttosto che la normativa l'entità giuridica non giuridica come deve essere fatta però sicuramente è un bel passo grazie grazie a lei altri interventi in aula a questo punto prego se Foggetta lei ha la parola allora io partirei da un da un punto se ancora oggi nel duemilaventiquattro continuo a dire ventitré ma nel duemilaventiquattro se uscissimo questa sera e chiedessimo alle poche persone che ci sono in giro cosa sia una comunità energetica purtroppo ancora molte persone probabilmente non l'avrebbero mai sentita nominare qualcuno l'avrebbe sentito nominare ma non saprebbe che cos'è qualcun altro ancora probabilmente penserebbe alla classica fissazione degli ecologisti e degli ambientalisti quando invece forse molto pochi e questo consiglio comunale mi pare di capire sia tra questi ha idea del fatto che si tratti di qualcosa che è effettivamente un qualcosa di concreto e che risponde a esigenze effettivamente effettivamente concrete della comunità che partono intanto dalle questioni ambientali dalla diminuzione della dipendenza dal fossile e dal passaggio a qualcosa di decisamente più pulito la diminuzione di spese la diminuzione delle spese ma anche anche concreto nel senso di quella ricerca di autonomia che come paese come stato dobbiamo dobbiamo perseguire perché sappiamo quanto tanto siamo dipendenti dall'estero anche in questo senso e l'ultimo periodo l'ultimo periodo di contesto particolare in Europa ci ha fatto capire quanto forse dobbiamo cominciare a lanciarci su altre altre strategie è qualcosa che risponde a esigenze molto concrete ma è anche qualcosa di molto complicato è effettivamente non è quella roba un po' da fricchettoni che qualcuno potrebbe ancora pensare ma è qualcosa di molto complicato si pensi alla gestione pubblica alla gestione privata si pensi al mantenimento dell'energia in circolo o ridiffuso si pensi alla gestione non dei ricavi ma dei risparmi quantomeno e in questo senso c'è qualcosa che gli enti locali devono e dovranno anzi c'è qualcosa c'è qualcosa di molto grosso che gli enti locali devono fare devono lavorare tanto per una forte sensibilizzazione in questo senso per un indirizzo per indirizzare verso qualcosa di questo tipo e in questo senso effettivamente forse non forse ma anzi lo diceva bene prima la consigliera Pagani Regione Lombardia ha già iniziato da tempo ha iniziato anche da prima che effettivamente la legislazione arrivasse completamente a termine e e su questo assolutamente possiamo e dobbiamo essere eh di questo dobbiamo essere contenti l'ha fatto anche con quella manifestazione di interesse di cui si parlava prima a cui hanno aderito oltre sono arrivate oltre cinquecentotredici adesioni però per lo più non 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 per la maggior parte di amministrazioni comunali che poi da cinquecentotredici si è scesi a trecentotrentotto se non sbaglio effettivamente adesioni che sono risultate eh idonee ma per quanto Regione Lombardia possa fare quando si parla di comunità energetica in questo senso poi sono i piani intermedi quelli che stanno sotto Regione Lombardia che tanto invece hanno la possibilità di muoversi io se guardo la definizione di comunità energetica che dà eh è nostra che è una con una cooperativa produttrice di energia eh si parla di comunità energetica come di un progetto di attivazione di attivazione territoriale che persegue finalità di natura socio-economica e ambientale socio-economica quindi anche tutta una parte sociale per la quale eh il le amministrazioni comunali possono dare un un valore aggiunto rispetto al lavoro di altri enti locali che eh che altri non potrebbero appunto in questo senso sono molto contento di discutere questa sera eh questa questa delibera e eh e spero e sono convinto che laddove davvero le interessi e le intenzioni siano queste questa amministrazione comunale questo consiglio comunale questa giunta poi debba lavorare perché queste comunità energetiche che si stendono che si estendono sui territori che si stenderanno sul territorio di Sesto San Giovanni eh servano anche proprio alla costruzione di eh di di comunità non è un caso se eh nella nello sviluppo delle comunità energetiche eh molto spesso all'avanguardia sono eh enti ad esempio come la Caritas come gli enti ecclesiastici che tanto lavorano per la questione dell'efficientamento energetico per un risparmio eh anche economico ma anche perché sanno che questo può e deve eh creare comunità creare un'aggregazione un un'unità tra le persone che appartengono tra le cittadine e cittadine che appartengono a quella comunità eh molto molto forte mh anche per noi il poi questo lo dirò in dichiarazione di voto il l'intenzione è quella di votare favorevolmente a questa delibera poi dopo parleremo anche dell'ordine del giorno in discussione grazie altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula pertanto chiudo la discussione e passiamo come qualcuno di voi appunto ha già citato all'ordine del giorno che è stato presentato con riferimento a questa proposta di delibera ordine del giorno a firma di tutti i consiglieri di opposizione e a prima firma congiunta della capogruppo Pagani e capogruppo Maderloni chiedo chi dei due eventualmente presenta l'odg prego passo la parola alla consigliera Pagani per la presentazione grazie presidente allora mh tralascio tutta la parte delle premesse che sono un po' le cose che ci siamo dette evidentemente all'interno dell'ordine del giorno quindi a quale direttive si fa riferimento dal punto di vista della della legge e allora la riflessione che abbiamo fatto che ci ha messo nella condizione di poter proporre insomma un ordine del giorno perché abbiamo pensato che potesse essere come dire che ampliasse mettiamola così il raggio d'azione comunque della delibera specificasse alcune cose che appunto non non erano assolutamente immediatamente chiare sono legate allora intanto rispetto a quello che diceva prima il consigliere Pogliaghi io poi devo essere sincera non ho chi ha ben afferrato alcuni suoi passaggi ma secondo me non erano tutti giusti non che non li ho capiti ma so che tanto il consigliere propende più per l'altra affermazione allora intanto l'imprimo impegno che chiediamo al sindaco e alla giunta nell'ordine del giorno è quello di provare a capire come declinare in obiettivi concreti che però siano compatibilmente chiaramente con la situazione però voglio dire che ho la complessità perché qua nessuno è stupido rispetto al tema in generale però a capire anche quali possono essere i tempi di raggiungimento rispetto agli obiettivi che ci diamo che non mi sembra una pretesa assurda poi nel percorso alcune cose cambiano i termini di partenza non sempre sono uguali ai termini di arrivo rispetto agli obiettivi la pandemia ci ha dimostrato che tutto può accadere però insomma questo ci pareva una cosa abbastanza importante poi il secondo punto è programmare la progettazione di una cerra possiamo dirla così sintetica che ci capiamo capiamo comunità di energie rinnovabili per ogni cabina primaria che serva al territorio di Sesto San Giovanni al fine di non escludere nessun cittadino se stesere la possibilità di aderire alla comunità energetica e questo è un passaggio secondo noi utile e come dire anche interessante per l'amministrazione comunale curare e focalizzare con particolare attenzione gli aspetti che possono avere un impatto positivo sul fenomeno della povertà energetica incentivando l'adesione alla comunità dei cittadini in situazioni di vulnerabilità economica e sociale allora questo non è che ridistribuiamo i soldi come ha detto il consigliere Pogliaghi se l'ho capito bene consigliere Pogliaghi ma in realtà diciamo che le comunità energetiche contribuiscono a ridurre i costi di approvvigionamento energetico e in questo senso aiutano i soggetti fragili soprattutto quelli che fragili non sono solo dal punto di vista economico perché spessissimo la fragilità dal punto di vista economico si accompagna a quella sociale e soprattutto a quella culturale che mi dispiace che è una parola che non ho messo dentro questa dentro questa mozione e il ruolo deve essere quello che fa l'istituzione di essere garante anche di un percorso di un processo che come diceva il consigliere Foggetta ai più risulta ancora sconosciuto e se io mi immagino un target medio come quello non si offenda la mia mamma se la cito perché non è denigrativo però come quello della mia mamma che comunque ha 70 anni e che di fronte alle cose che non conosce e che sono oscure preferisce tirarsi indietro allora forse approfondire spiegare perché poi alla fine questo è un elemento è un valore aggiunto che secondo me è un ruolo che il comune dovrebbe avere destinando poi finiamo i corrispettivi per l'eventuale energia venduta a progetti e interventi anche in ambito sociale ricordiamoci però che se abbiamo capito bene ma crediamo di sì gli incentivi per gli eventuali come dire che si dicevano insomma per la cessione di energia devono essere destinati a interessi sulla povertà energetica e quindi da questo punto di vista ci sembra interessante poi il relazionale periodicamente in consiglio comunale da attivare canali informativi in città sull'evoluzione della CER per dar vita ad un processo condiviso tra istituzioni e cittadini un po' sintetizza quello che dicevo prima perché è importante spiegare ed è importante coinvolgere ed è importante dire alle persone che abitano nelle case comunali quali sono i vantaggi relativi alla comunità energetica che è rappresentata diciamo in primo luogo per loro evidentemente dall'amministrazione comunale perché loro avranno dei contributo per il consumo dell'energia ma avranno anche dei rimborsi che sono determinati dal non appoggiarsi totalmente alla rete energetica anche questo è previsto allora questo li solleva evidentemente può aiutare i soggetti fragili io credo che insieme a tutte le cose che abbiamo elencato sono come dire è un ampliamento di raggio che però è significativo perché se mi posso permettere anche un'indicazione di cura nei confronti della città perché non siamo tutti uguali non partiamo tutti dallo stesso punto e allora ridurre i punti di partenza è sempre uno strumento utile da questo punto di vista e ho finito con la presentazione dell'ordine del giorno ascolto la discussione insomma che ci sarà crediamo che questo ordine del giorno sia un arricchimento possa essere un arricchimento di una delibera che come abbiamo detto tutti quanti viviamo in maniera positiva grazie Sera Pagani a questo punto apriamo la discussione sull'ordine del giorno ricordo che ci sono cinque minuti per ogni gruppo consigliare per vengo io ho visto che sono stati citati probabilmente dei passaggi non molto chiari non è che l'intento di questo ordine del giorno sia non condivisibile come obiettivo diciamo c'è un tema di formulazione però in questo caso il punto è proprio molto preciso perché si è ritornati su questa questione su questa questione dell'asgravio citando delle parole e allora provo a rispiegare meglio questa partita una dei due punti che voglio spiegare parto però dal primo più generico che è un po' prematuro definire la tempistica e individuare per esempio quale cabine verranno destinate alla realizzazione del CER proprio per rispondere perché la normativa in questo caso che è ancora in evoluzione molto molto recente in merito è ancora in fase di definizione e completamento e modifica proprio per adattarsi come dicevo prima al comune grande come al comune o insieme di comuni piccoli il proposito della delibera è quello di formalizzare l'avvio di questo percorso su cui su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo volto a individuare anche il modello da adottare la tipologia giuridica come citavo prima per la gestione di tutte quante tutti quanti vi prenderanno parte una volta svolte le analisi tecniche approfondite e arrivate tutti i perfezionamenti di questi sarà possibile delineare le azioni che si possono intraprendere e questo è una cosa generale che sta sopra dopo veniamo alla tematica di rappresentazione che è stata data in questo ordine al giorno nel senso che come dicevo prima l'energia è una comunità energetica è scambiata in quanto è scambiata non è scambiata tra virgolette almeno in fase iniziale dal singolo cittadino ma dai componenti della comunità che hanno la capacità la potenzialità di entrare dentro questa comunità quindi per intenderci se ci sta la famiglia fragile per fare degli esempi così ci capiamo se ci sta la famiglia fragile che abita nella casa comunale questa direttamente non avrà mai uno sgravio della sua bolletta ce l'avrà indiretta perché avrà indirettamente lo sgravio come l'avranno tutti quelli che abitano nelle case comunali in quanto il comune si sarà fatto parte attiva e farà parte sarà proponente propulsore della comunità energetica quindi primo propulsore della comunità energetica il comune con tutte le sue cose le palestre le scuole le case eccetera eccetera quindi per certi versi è brutto dirlo perché è come dire questo è sì completamente democratico sarà una cosa a pioggia su tutto quello che afferirà ai consumi del comune che ha un consumo rilevante che ha la potenzialità di produrre in maniera rilevante quindi con certezza potrà costituirsi parte attiva nella comunità energetica questo volevo intendere quindi è una questione sostanzialmente di come è rappresentata perché sennò il punto come è rappresentato in questo in questo ordine del giorno non gira quindi l'impatto positivo sarà direttamente proporzionale a chi prenderà parte come entità non come entità singola quindi faccio l'altro esempio il singolo cittadino come il sottoscritto che dice voglio investire mille euro e metto i pannelli sul come dicevo prima sul balcone tanto pubblicizzati il singolo cittadino non prenderà parte della comunità energetica perché dietro quei pannelli per far parte della comunità energetica devo collegarli e devo spendere diecimila euro per collegarmi e quindi non vale la pena un po' esclusiva un po' esclusiva perché esclusiva esclusiva le parti che dovrebbero investire direttamente dicevo prima anche i condomini per esempio perché non tutti probabilmente hanno né la potenzialità né la voglia né la disponibilità di fare questa cosa qua ma tanto per fare cominciare la cosa poi sono sicuro che la norma evolverà in questo in questo senso però ciò non toglierà che chi fa parte della comunità energetica evidentemente ha un concambio anche di produzione e in quanto concambio di produzione quando produce per produrre devo spendere perché la tecnologia per produrre l'energia elettrica soprattutto in città perché non sono appunto a Bari come dicevo prima necessita di costi alti quindi in questo senso questo ordine del giorno dal mio punto di vista è scorretto perché prende una via che oggi non è attuabile non è non è attuabile oggi non è concreto non c'è la normativa già pronta per questo e soprattutto ha un errore di fondo secondo me nella considerazione verso chi ha realmente la povertà energetica che ne godrà indirettamente e non direttamente grazie grazie di altri interventi in aula se vincelli prego le la parola grazie presidente ma io partirei dalla diffusione chiaramente del fotovoltaico già negli anni settanta e ci sono stati i primi impianti ma il primo vero installato è stato nel 79 al passo della mantriola ma solo negli anni novanta c'è stata proprio la diffusione massiva per quanto riguarda il fotovoltaico e solo nel 2020 hanno il discorso massivo del fotovoltaico proprio perché ci sono stati poi degli incentivi statali che poi man mano sono scemati ma solo nel 2020 c'è stata un inizio di diffusione delle comunità di energia quindi creare la cultura sì ne sono chiaramente sono pienamente d'accordo come si è fatto per la la raccolta chiaramente differenziata quindi è vero è importante però passo passo alla volta un passo alla volta altro discorso che purtroppo chiaramente non non dipende solo chiaramente da noi mentre viene rilevato viene evidenziato nel vostro ordine del giorno è che al punto 10 della nostra delibera abbiamo già cinque cabine di regia ma non sono nostre cinque su cinque solo una che è la 10.1 che è quella che comunque fornisce principalmente quindi sulle altre non è che possiamo chiaramente noi decidere in autonomia dobbiamo effettivamente discutere chiaramente anche con gli altri comuni ma è solo chiaramente una una piccola parte no? che fornisce energia al nostro al nostro eh al nostro territorio il primo comma dove dice impegno al sindaco e alla giunta giustamente bisogna attendere come diceva il nostro collega eh Pogliaghi bisogna attendere la definizione del la definizione del decreto però già nella delibera già come 11 dove prima ne parlavo in relazione abbiamo già un itinere di cui effettivamente poterci in qualche modo iniziare iniziare il lavoro quindi eh nonostante eh ringrazio lo sforzo da parte della della minoranza in questo ordine del giorno purtroppo effettivamente non è eh possibile chiaramente essere essere favorevoli in quanto eh ci sono alcune cose che contrastano chiaramente con la delibera chiaramente in in essere grazie se la pagani prego sì allora senza perdersi nella tecnicità della discussione io dico questo eh perché trovo delle obiezioni veramente poco condivisibili ehm mi rivolgo al sindaco perché poi alla fine è il sindaco che decide no con tutto rispetto per ovviamente i consiglieri cioè questa è un'indicazione e mi viene da dire anche una linea politica perché altrimenti quali sono gli obiettivi politici della delibera io credo che sia importante non è che c'è scritto dobbiamo realizzare questa cosa in sei mesi c'è scritto che noi in un ordine del giorno assumiamo delle potenzialità e delle possibilità come importanti anche dal punto di vista politico è una scelta un'indicazione rispetto a delle direzioni poi la differenza tra chi abita in una casa comunale e chi non abita in una casa comunale la riconosco dal punto di vista della comunità energetica così come riconosco e so benissimo ma credo che qua lo sappiamo tutti quanti voi per primi che comunque è una costruzione in itinere di leggi decreti e quant'altro ma infatti qua non c'è scritto vogliamo raggiungere tutto questo nel gelo di sei mesi neanche di un anno c'è scritto queste sono le indicazioni alle quali insieme a tutto quello che ci diciamo ci ispiriamo e poi è chiaro che le cose si fanno con competenza con legiferazione e con coscienza di causa mi viene da dire oltre che politica però è un'indicazione e io credo che abbia un valore che è quello dell'indicazione politica e secondo noi era importante farlo per questo motivo ripeto non entra in conflitto con ciò che stiamo votando ci pare che invece lo ampli e tutto sommato le indicazioni di direzione siano condivisibili perché io le ho trovate scritte dappertutto indipendentemente dalle appartenenze politiche mi sembra che questo tema abbia davvero un valore e una rilevanza per la vita del nostro paese e del nostro continente d'Europa per ogni singolo cittadino per tutte le difficoltà anche in ambito ambientale che stiamo vivendo abbiamo poi una discussione su una mozione idrica di emergenza scusate idrica e quindi voglio dire sappiamo tutti benissimo quali sono gli avvenimenti che sono accorsi negli ultimi mesi che ci hanno particolarmente devastato oltre che preoccupato come paese davvero non mi sembra che non ci sia niente che non possa essere assunto come impegno la legge poi definisce anche i limiti della concretezza di ciò che si può realizzare a mano a mano che cresce come dire quella quello che è poi l'impegno che come paese e come continente ci stiamo prendendo e gli obiettivi che ci stiamo dando perché guardate questi obiettivi qua comunque dovremmo raggiungerli entro il 2030 quindi non è domani magari il 2029 magari il primo gennaio del 2030 ma sono lì sono scritti ma sono scritti dalle direttive europee non sono scritti da Mari Pagani da Yuri Madderloni con tutto rispetto per me per Yuri e per gli altri consiglieri che hanno firmato la mozione l'ordine del giorno scusate grazie grazie a lei prego se Magallonia le dà parola sì grazie solo per aggiungere due riflessioni rispetto alle motivazioni portate dai consiglieri di maggioranza parliamo di comunità energetiche e in qualche modo il termine proprio comunità indica un aspetto di collettività che in qualche modo prevede che ci sia un mutuo aiuto o quantomeno un'attenzione allora il concetto se vogliamo estendere da un punto di vista di significato dell'aiutare le persone in povertà energetica o richiedenti questo tipo di sostegno lo possiamo anche mutuare come una liberazione di risorse che possono derivare da questo tipo di sviluppo e che quindi in qualche modo il comune rispetto alle cifre che citava nella relazione di apertura il consigliere Vincelli se il comune ha poi alla fine del percorso un risparmio quelle risorse che derivano da spendo meno in bollette rete che posso utilizzarlo in opere se non osservate di bene ma comunque nell'ambito del sociale o nell'ambito dell'aiuto delle situazioni in difficoltà delle famiglie in difficoltà questo è anche lo spirito con cui noi dobbiamo vedere al di là del singolo regolamento burocratico il concetto della comunità energetica perché se l'obiettivo nostro è costruire una società che sia in qualche modo più sostenibile lo deve essere in tutti gli aspetti non lo può essere solo da un punto di vista economico o dell'efficientamento energetico o delle emissioni gassose o di qualunque altro parametro si voglia evidenziare il concetto proprio di comunità esprime questa globalità della cosa e quello che noi chiediamo è ma non lo diciamo noi perché abbiamo presentato l'ordine del giorno ma perché crediamo che sia fisiologico nel chi governa nel chi amministra darsi delle tempistiche darsi degli obiettivi che vuole raggiungere ora noi abbiamo un obiettivo che ci è stato imposto dall'Unione Europea o come si diceva una volta è l'Unione Europea che ce lo chiede per arrivare lì io immagino che comunque un buon padre di famiglia mettiamola così decide che se deve comprare un'auto saprà quanto potrà costare il modello e andrà a risparmiare per poter avere quei soldi ora in questo caso non è risparmiare ma è dire va bene tra sei mesi le verifiche i punti che sono in delibera a che punto sono il dialogo con i privati che potrebbero potenzialmente essere coinvolti a che punto sono entro quanto ci vogliamo dare un momento per dire rispetto all'obiettivo che c'è l'Unione Europea ci siamo o non ci siamo noi crediamo che visto che poco più di un'ora e mezza fa discutevamo di quanto il nostro comune fosse avanti nel progettare e nell'eseguire certe indicazioni che ci venivano ci sembra stanno che ora che noi chiediamo di dare un timing generico ma iniziare a impegnare l'amministrazione a darsi un timing che non ci ha da dare stasera ma che ne so fra sei mesi magari ci ritroviamo e in una commissione e parliamo di questa cosa penso che sia una pensiamo che sia il minimo per poter raggiungere un obiettivo perché se altrimenti il concetto è che facciamo questa cosa ma poi non ne parliamo più diventa diventa un un mettere solamente delle bandierine ma che in realtà poi non raggiungono l'obiettivo che l'Unione Europea cioè noi ci siamo posti cioè di costruire una realtà che sia più sostenibile per le future per le generazioni future non per quelle di adesso grazie grazie a lei c'è Maderloni altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula a questo punto prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno e della proposta di delibera chiedo se ci sono eventuali repliche da parte del sindaco o di qualche assessore sì grazie presidente ma giusto a chiarimento di alcune osservazioni sono stato tirato in ballo un po' dai consiglieri firmatari di quest'ordine del giorno ma tutto quello che voi avete indicato i buoni propositi la finalità è già all'interno della delibera credo che si sia ci sia stato proprio un errore di percezione sulla tipologia di delibera di questa sera noi stiamo avviando un percorso non la stiamo costituendo stasera la comunità energetica c'è tutto un iter da fare siamo un po' pionieri siamo nel primo step stiamo costituendo l'ufficio l'abbiamo appena costituito stiamo c'è tutto un un iter un percorso indicato in delibera finalizzato a un avviso per individuare un tecnico a fare una valutazione di quelle che sono le aree a fare dei piani finanziari a fare dei progetti pilota a individuare dei processi pubblici partecipativi dopodiché ci saranno anche degli interlocutori con cui si avvierà perché la comunità non è che la fa il comune da solo la faremo con le imprese con i condomini cioè ci sarà tutto un contenuto tecnico che deve avere un equilibrio economico e che andrà nella direzione che dice proprio questa delibera di avvio da un punto di vista di una riduzione di quella che è la spesa sociale le direttive europee la finalità della direttiva europea di combattere la povertà energetica c'è la finalità di avere un ambiente più pulito di ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili di una decarbonizzazione cioè c'è già tutto all'interno di questa delibera così come credo io ho fatto un esempio in commissione parlando della raccolta differenziata credo che ci sia anche la necessità c'è chi citava la mamma ma diciamo ci sono certe generazioni che giustamente hanno delle difficoltà dovute a un'abitudine a un percorso generazionale sociale dove bisogna lavorare su un'educazione energetica così come è stato fatto sulla raccolta differenziata quando è stata introdotta c'è stato anche un processo di coinvolgimento della cittadinanza un coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti per insegnare anche che non era un capriccio delle istituzioni ma era un beneficio non soltanto economico ma all'ambiente quindi tutto questo in questa delibera c'è già allora io comprendo anche le posizioni politiche ci mancherebbe so che un tema molto caro a molti rappresentanti dell'opposizione così come della maggioranza e che quindi magari per giustificare un voto favorevole bisogna mettere una bandierina però quando si presenta un ordine nel giorno almeno che sia che non condizioni il lavoro degli uffici tecnici in prospettiva futura perché indicare i tempi per il raggiungimento degli obiettivi lo vedo veramente surreale chiederlo o indicarlo nell'immediato la progettazione di una comunità energetica per ogni cabina primaria ma come si fa a dirlo oggi a dare un'indicazione agli uffici tecnici che devono realizzare per ogni cabina primaria una comunità energetica se ancora non è stata affidata a un tecnico esperto la valutazione degli spazi dell'impianto delle potenze con una normativa che sta completamente variando quindi così come destinare i corrispettivi per l'eventuale energia venduta a progetti e interventi in ambito sociale tecnicamente è incompatibile con il funzionamento cioè io quello che dico è capisco le bandierine politiche capisco la sensibilità sul tema però quando si se si decide di fare un ordine del giorno che almeno sia conforme alla delibera e che non dia un indica o alteri l'indicazione che il consiglio comunale sta dando agli uffici tecnici tutto lì grazie grazie sindaco a questo punto passiamo adesso alla votazione dell'ordine del giorno appunto presentato dall'opposizione quindi andiamo anche in questo caso per alzata di mano favorevoli contrari con sedici voti contrari otto favorevoli l'ordine del giorno viene respinto passiamo adesso alla dichiarazione di voto invece della proposta di delibera con i due minuti per ogni gruppo città in comune consigliera Pagani grazie presidente allora volevo tranquillizzare ma voglio ironizzare perché il sindaco è stato un filo provocatorio almeno dal mio punto di vista qui non ci sono bandierine da appendere perché se mi posso permettere quando ci sono dei libere che incontrano necessità non solo dei cittadini ma in questo caso parliamo anche dei cittadini del comune di tutto ciò che siamo non è che dobbiamo appendere delle bandierine perché se quello che ha senso è già lì ha senso per tutti quanti quindi io personalmente come credo tutti non abbiamo bisogno di giustificare il voto favorevole che diamo a questa delibera e che io ho annunciato ancora prima della discussione dell'ordine del giorno a maggior ragione del rigore e della trasparenza con la quale stiamo votando favorevolmente questa delibera avevamo capito che non era la costituzione della comunità energetica nell'immediato forse non avete avuto non avete capito voi che cos'è immediato e che cos'è a lungo tempo e qual è lo scarto e la differenza rispetto a delle indicazioni politiche che a mio avviso oggi non condizionano gli uffici preventiamo sesto consigliere io volevo dire due parole io proprio perché come è stato detto anche dalla maggioranza questa è ancora una fase sperimentale non questo non dovrebbe precludere potersi prefissare degli obiettivi avete detto voi siamo in una fase sperimentale non c'è nulla di concreto ancora non si sa quale tipo di forma utilizzare se quella società è partecipata c'è una recentissima pronuncia della corte dei conti non pronuncia un parere che è stato dato nel merito della questione che ha ha delineato delle impronte molto chiara rispetto a quelle che quello che deve essere il comportamento delle amministrazioni comunali sul punto e soprattutto ha ribadito che nonostante le finalità meritorie delle istituzioni delle comunità energeti perché perché queste sono questo è innegabile saremo qua a fare retorica questo non non deve non deve permettere al comune di rimandarsi soltanto alla normativa quindi deve essere fatto uno studio di fattibilità concreto sul territorio e la consultazione con la cittadinanza è fondamentale quindi io credo che tutto questo sia sicuramente possa sicuramente essere sposato con l'istituzione di obiettivi particolari anche se poi non riusciamo a concretizzarli stasera perché l'abbiamo capito tutti che stasera non si costituisce nulla però darsi degli obiettivi politici non non avrebbe sicuramente portato negatività al progetto grazie Alleanza Verdi Sinistra Consigliere Foggetto particolarmente provocatorio ha detto la consigliera Pagani dell'intervento del sindaco io mi permetto di dire in alcuni punti anche particolarmente sgradevole specie alla luce di una eh discussione che era stata mi sembra decisamente positiva e propositiva da parte di tutte le parti ehm la decisione di mettere bandierine evidentemente la malizia sta negli occhi di chi guarda dicevano persone ben più sagge eh di me e di tutti noi io credo evidentemente questa malizia è stata riscontrata in un intervento di una sgradevolezza che non serviva ripeto dopo le discussioni di questa sera aggiungo solo avevo alzato la mano velocemente prima presidente ma non mi ha visto perché era girato dall'altra parte quando ha chiesto rispetto all'ordine al giorno no no solo appunto vado velocemente per dire rispetto a quanto si è detto e per aggiungere solo un elemento che però ormai non serve più quanto invece in Italia esista una rete che si chiama CERS che sono le comunità energetiche rinnovabili solidali che portano aiuti e sostegno concreti a famiglie in stato di disagio e di povertà socio-economica chiedo ancora scusa chiedo scusa il nostro voto l'avevo già letto prima sarà favorevole grazie Lega Salvini Premier consigliere Pini grazie presidente che cos'è una comunità energetica leggo una comunità energetica consiste in un'associazione tra cittadini attività commerciali pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale è già scritto signori quindi io direi che la proposta la richiesta quello che voi state continuando a ripetere questa sera che a vostro dire inascoltati in realtà non è molto chiaro il problema è che è prematuro qualunque vostra richiesta è stata prematura e quindi direi che possiamo procedere senza alcun problema all'avvio di questo processo poi nel durante io immagino che ci sarà comunque il tempo del confronto intanto cominciamo ad avviarlo questo progetto grazie il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliera Cupido sì grazie presidente ma in realtà condivido abbastanza una parte di quello che ha detto il consigliere Foggetta per cui mi sembrava che il dialogo stasera fosse un dialogo costruttivo e condivido anche quello che ha detto il consigliere Maderloni questo ovviamente lo dico con un po' di ironia nel senso che è vero che quando si parla di comunità si parla di collettività e non capisco perché si dia per scontato un'assenza di attenzione nei confronti dei soggetti più fragili come dire delle famiglie dei nuclei familiari stati di maggiore povertà dopotutto se io penso all'obiettivo principale oltre che appunto alla salvaguardia dell'ambiente di questa delibera penso a una redistribuzione ok quindi che coinvolge tutta la cittadinanza non soltanto alcuni soggetti e che consentirà certamente di avere un'attenzione anche a tutti i cittadini per cui anche a chi fa più fatica quindi francamente faccio fatica a capire la polemica che si è incardinata questa sera ma sono certa che questa delibera troverà il voto favorevole di tutti e sicuramente di Forza Italia Partito Democratico Consigliere Maddalone grazie allora come detto nell'intervento iniziale sul proprio di questa delibera noi siamo favorevoli a questo tipo di progetti perché avevamo anche nel programma elettorale del duemila e ventidue quindi non abbiamo bisogno di ribadire o di fare azioni politiche che debbano ribadire un ovvio che c'è già da più di due anni quello che semplicemente chiediamo era quello di giustamente darsi anche dei momenti di verifica di prestare delle attenzioni e di garantire degli accessi dopodiché non abbiamo trovato la condivisione su questa cosa ce ne faremo una ragione aspetteremo che il progetto prosegua i tecnici preparino loro le proposte da dare alla politica in questo caso notiamo come la politica sia al servizio del tecnico noi crediamo che la politica deve collaborare col tecnico comunque giusto per ribadire che a prescindere dal confronto in aula questo progetto per noi è un progetto importante per la città per la comunità e crediamo che oltre alle già 24 comunità energetiche esistenti e che stimate a fine 2023 dovrebbe essere 189 speriamo che a quanto prima anche sesto si aggiunga questo elenco grazie gruppo misto consigliere vincelli grazie presidente probabilmente nella mia nel mio intervento non è stato capito una cosa il vostro ordine del giorno pur considerandolo un ordine del giorno che ha una sua coerenza con quanto effettivamente sono le comunioni le comunità energie rinnovabili purtroppo c'è un punto che non può andar bene cioè quando voi parlate di programmare la progettazione di un cer per ogni cabina primaria scusate non è possibile farlo in autonomia in quanto sul territorio di sesto c'è una sola cabina che serve gran parte quindi già questo ordine del giorno in questo modo effettivamente è bocciato se magari la prossima volta lo proponete effettivamente prima del consiglio comunale magari riusciamo a trovare insieme una strada ritengo che le energie rinnovabili cioè il rispetto dell'ambiente e il rispetto di tutto quello che effettivamente noi abbiamo all'interno anche di questa anche delibera non appartenga né la destra né la sinistra né il centro appartiene chiaramente a tutti quindi direi che io sono molto contento stasera di essere stato il relatore e di avere effettivamente in questa delibera si è tutti d'accordo nell'essere favorevole noi moderati del gruppo misto siamo favorevoli abbiamo sesto consiglio Molteni grazie presidente allora mi sembra che sia stato detto tutto nel senso che siamo tutti concordi nel riscontrare la eccellenza di questo passaggio abbiamo anche realizzato che i benefici a lungo termine probabilmente però saranno di tutta la comunità non è possibile adesso per i motivi tecnici esposti fino adesso identificare la famiglia che mette il pannello è stato l'aspetto tecnico è stato sviscerato in tutti i suoi aspetti di conseguenza non possiamo che essere favorevoli anche noi a un passaggio di questo genere grazie fratelli d'italia consigliere turolla grazie presidente voto favorevole di stefano sindaco consigliere pogliai grazie presidente voto favorevole passiamo alla votazione della delibera favorevoli con 24 voti favorevoli la proposta di delibera viene approvata procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità favorevoli con 24 voti favorevoli dichiaro l'immediata eseguibilità della delibera passiamo alla terza proposta di delibera all'ordine del giorno approvazione del regolamento per l'accesso e l'uso dello skate park eh Sesto Plaza in via Molino Dorino passo la parola all'assessore chiedo scusa via Molino Tuono passo la parola all'assessore la Miranda per la presentazione grazie grazie presidente buonasera a tutti velocemente in vista dell'apertura della nuova struttura dello skate park si rende necessario reggimentare l'accesso e le eh responsabilità materia esclusivamente di competenza dell'aula consigliare ed è per questo motivo che siamo qui questa sera per l'approvazione fondamentalmente si attribuisce una eh limitazione o meglio un'esclusione totale di responsabilità eh in capo alla pubblica amministrazione nell'utilizzo di questa struttura da parte degli utenti si limita all'utilizzo al di sotto dei dodici anni alla presenza di un maggiorenne quindi può essere un familiare o comunque un amico si amplia in base anche a quanto è emerso in commissione presentato in sede di emendamento per cui esprimiamo già parere favorevole eh dal partito democratico il servizio di skate park non solo agli skaters ma anche a chi utilizza il monopattino escludendo però contemporaneamente qualsiasi di questi mezzi motorizzato l'ordine di priorità si vorrebbe comunque mantenere prima in caso di sovraffollamento gli utilizzatori naturali che appunto gli skaters e poi a seguire tutti gli altri tipi di utilizzatori quindi roller e monopattini eh fondamentalmente abbiamo riservato anche in capo all'amministrazione il potere di limitare l'accesso per eventi particolari quindi organizzazioni anche di competizioni sportive legate a questo stiamo già ricevendo parecchie parecchie sollecitazioni in questo senso perché ovviamente non ci sono tanti impianti sul territorio e grazie ai vari interventi che abbiamo fatto in questi anni anche di accessibilità all'aria in primis la ciclabile che collega Parco Adriano con la sede dove è lo skate sicuramente agevola moltissimo gli utenti e gli utilizzatori a raggiungere questa struttura grazie grazie a lei assessore apro la discussione su questa proposta di delibera facendo presente che al termine della quale della discussione ci saranno cinque emendamenti da esaminare e porre in votazione presentati dal partito democratico se qualcuno se qualcuno vuole intervenire chiedo di alzare la mano grazie consigliere di cupola le ha parola grazie presidente buonasera a tutti sia i presenti che quelli in remoto allora con questa delibera andiamo ad approvare il regolamento per l'uso del nuovo skatepark 6 plaza che sarà inaugurato il prossimo 3 febbraio alle 15.30 nel parco di cascinagatti il regolamento è finalizzato a disciplinare l'accesso e l'uso del skatepark a favorire la pratica di attività sportive e ricreative per ragazzi e adulti a garantire il più ampio uso da parte di tutti e a stimolare il rispetto fra gli utenti e il decoro degli spazi urbani all'interno del parco rurale di verde pubblico il nuovo terreno di gioco si è collocato come punto di comunità a servizio dei giovani del quartiere e non solo un punto di unione per un quartiere in espansione dove praticare una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede tra i giovani nello spazio ha preso a vita un progetto che ha accolto il suggerimento dei gruppi di skaters certesi e che sono stati tradotti dagli uffici comunali e da consulenze specialistiche con una serie di attrezzatura adatte a chi intende avvicinarsi a questa pratica sportiva giovane e coinvolgente per la prima volta ma anche ad ice cartel esperti è un impianto polivalente in cui è possibile praticare diverse discipline sportive per le tavole a rotelle pattini BMX e monopattini non elettrici la struttura quindi permette un utilizzo molto ampio dare a questo quartiere uno spazio con una funzione che crei relazioni benessere vitalità risponde ancora una volta all'impegno e all'attenzione particolare che l'amministrazione dedica a questa zona della città augurando a tanti ragazzi maggior divertimento e maggior rispetto possibile del frequentarlo mi auguro e ci auguriamo che da parte di tutti ci sia un vero senso civico nel rispetto delle cose comuni e solo per il bene della nostra città grazie grazie a lei grazie presidente sarò veloce come produttore amocratico siamo favorevoli questo progetto è stato ideato diciamo da un piano di riqualificazione periferi 2016 quindi qualcosa di positivo in passato si è anche fatto che rientrava anche la terrazza bottoni e lo skate park è un luogo strategico che si trova anche nel confine con Sesto con il parco di Vadriano con il parco di Cascinagatti la nuova bergamella e la nuova una martesana è un progetto che vede appunto valorizzare non solo una zona periferica ma anche uno sport qualcosa di di ludico per tutti gli appassionati prima di allora si ogni volta che passavo per Sesto Amarelli vedevo tantissimi appassionati di skate allenarsi sotto l'impregilo sotto il il porticato dell'impregilo quindi bene avere uno spazio avere uno spazio dislocato appunto al confine quella della città e quindi siamo contenti sicuramente favorevoli grazie grazie a lei altri interventi in aula prego grazie presidente saluto tutti i presenti collegati da remoto volevo solo integrare l'intervento che ha fatto il consigliere Garotta mi ricordo che forse il progetto era ancora antecedente era un progetto di quartiere del 2012 per cui posso testimoniare che avendo una figlia che faceva parte del gruppo di skater che era sotto l'impregilo le avevo promesso che a breve avrebbe potuto nel quartiere di Casinagatti avere un impianto dedicato per lei e tutti i suoi amici e purtroppo abbiamo dovuto aspettare un po' insomma quindi purtroppo quella legislatura 12-17 è volata e adesso siamo qui tutti a festeggiare che finalmente questo impianto viene inaugurato e può essere utilizzato sicuramente sarà una risorsa per il quartiere sicuramente porterà una maggiore velocità ancora nel parco media valle dell'Ambro e ne beneficeranno il quartiere intero di Casinagatti grazie 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 l'intervento in aula prego grazie presidente buonasera a tutti i consiglieri la giunta i cittadini presenti e collegati vorrei solamente aggiungere un paio di cose allargando la visione dal solo regolamento che è sicuramente quello in discussione ma che forse è opportuno non fermarci al solo regolamento anche perché io credo abbia delle criticità il regolamento in votazione poi vedremo se supereranno quegli emendamenti che abbiamo proposto mi sembra che sia dato per scontato il voto però gli emendamenti sono stati presentati dall'opposizione lo so ho parlato con ho parlato con l'architetto sono convinto che li approverete perché sono emendamenti di buon senso però per ripristinare il corretto funzionamento delle istituzioni è l'opposizione che ha emendato un regolamento che aveva dei profondi errori profondi perché c'è una delle incongruenze che dopo le vedremo durante la discussione degli emendamenti quindi andiamo oltre il semplice regolamento perché se no entriamo in una polemica un po' sterile io auspico delle cose relative allo skate park che sicuramente come anticipava il mio collega è assolutamente una cosa positiva che ci vede assolutamente favorevoli detto questo lo skate park non è ancora aperto e già da una settimana ci sono le recinzioni di velte buttate per terra e la gente che entra senza nessun tipo di controllo e con esponendo tra l'altro a rischi l'amministrazione qualora dovessero succedere dei problemi nella stessa situazione io avendo avuto modo di leggere con attenzione il regolamento ci sono tante prescrizioni che seppur condivisibili io mi auguro che l'amministrazione abbia previsto poi di verificare che vengano rispettate perché prevedere obblighi estensivi di protezione per i minorenni senza indicare con precisione quali sono gli obblighi perché eccetera eccetera previsto di fianco agli obblighi significa un'infinita possibilità di obbligo significa dare delle prescrizioni che poi semplicemente verranno disattese e io mi auguro invece che da parte dell'amministrazione ci sia la volontà di preservare lo skate park come un luogo positivo e di non lasciarlo a se stesso come è ora ancora prima di essere inaugurato perché che nessuno si sia accorto che da giorni sono per terra pezzi di ringhiere mi sembra molto strano e poi c'è un altro tema che ho sollevato in commissione su cui devo dire ho ricevuto delle risposte veramente tristi ed è quello degli alberi che sono presenti all'interno dello skate park non all'esterno del skate park all'interno dello skate park che secondo la mia valutazione ma magari mi direte che è una valutazione assolutamente interrata hanno delle criticità delle criticità legate alla pulizia dello skate park in autunno che se abbiamo degli alberi che perdono delle foglie queste foglie possono diventare molto pericolose se lo skate park non è adeguatamente pulito che possono nel medio termine portare a delle problematiche perché laddove dovessero crearsi degli spostamenti dei rialzamenti dovuti alle radici degli alberi presenti all'interno dello skate park si dovrebbe magari operare della manutenzione non così fra tanto tempo o addirittura ovviamente nessuno si augura che questo accada la presenza di alberi in traiettoria con delle rampe potrebbe portare ma ci auguriamo che non sia così a qualche infortunio ora io mi auguro che l'amministrazione abbia preso in carica abbia preso in considerazione queste tre casistiche le ritenga estremamente improbabili o di assoluta irrilevanza mi auguro di non dover leggere sul giornale che una di queste tre cose è accaduto perché sarebbe veramente spiacevole mi riservo poi di entrare nel tecnicismi del regolamento nel momento di lettura e votazione degli amendamenti grazie grazie a lei altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula a questo punto chiudo la discussione ok passiamo agli amendamenti presentati tutti presentati dal partito democratico partiamo con i primi due emendamenti che si riferiscono al regolamento partiamo dal numero dal numero uno che si riferisce all'articolo due appunto del regolamento passo la parola al consigliere per la presentazione grazie presidente il primo emendamento aggiunge all'articolo due del regolamento la possibilità che entrino all'interno dello skatepark non solo gli skateboard i pattini e le BMX ma anche i monopattini questo perché come fatto presente in commissione quello dei monopattini è sicuramente rappresenta una nicchia ma una nicchia di persone che di solito in diciamo qualsiasi altro skatepark have hanno la possibilità di entrare e che sinceramente ci pareva una mancanza in questo regolamento per cui proponiamo al consiglio comunale di di aggiungerlo grazie passiamo alla dichiarazione di voto su questo emendamento sempre due minuti per gruppo città in comune consigliere Pagani favorevole rimentiamo sesto consigliere Amdi favorevole alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta favorevole lega salvini premier consigliere Appini favorevole forza Italia consigliere Cupido favorevoli partito democratico consigliere Maderloni favorevole gruppo misto consigliere Vincelli favorevole amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente eh no questo per onore di cronaca eh la maggioranza non ha presentato emendamenti a questo perché con molta attenzione i consigli le nella commissione l'opposizione aveva già fatto presente queste cose e poi sapevamo che avrebbero presentato queste legittime precisazioni non perché non eravamo in grado di presentarlo comunque il nostro voto sarà favorevole fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente favorevole di Stefano Sindaco consigliere Pogliai favorevole passiamo alla votazione dell'emendamento in questione favorevoli con 24 voti favorevoli l'emendamento viene approvato passiamo a secondo emendamento sempre del partito democratico sempre con riferimento al regolamento relativamente all'articolo 3 la parola al consigliere Gatti grazie presidente eh in questo secondo emendamento si uniforma quanto previsto dall'articolo 2 all'articolo 3 punto 7 punto D specificando oltre al a permettere ai monopattini di entrare all'interno del skatepark il contemporaneo divieto eh del dell'entrata dei monopattini elettrici c'è anche una specifica legata al fatto che eh oltre alle BMX cioè le altre biciclette non possono entrare mentre per come era scritto si poteva creare una ambiguità grazie grazie a lei passiamo a dichiarazione delle di voto sull'emendamento in questione c'entra in comune consigliere Pagani favorevole reinventiamo sesto consigliere Amdi favorevole alleanza verdi sinistra sì volevo solo confermare quanto diceva il consigliere Molteni gli emendamenti sono stati presentati dalla minoranza perché la maggioranza sapeva che li avrebbe presentati il consigliere Gatti a testimoniarlo ci sono le valanghe di emendamenti fatti alle delibere nei consigli comunali scorsi chiedo perdono consigliere Molteni mi permetta l'ironia favorevole Lega Salvini Premier consigliere Appini evitiamo le polemiche eh favorevole Forza Italia consigliere Cupido favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni favorevole gruppo misto consigliere Vincelli favorevole amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente prego prego consigliere Foggetto tutta l'ironia che vuole comunque il mio non era un intervento di che voleva essere di polemico di felice constatazione il nostro voto sarà favorevole comunque Fratelli Italia consigliere Turolla favorevoli di Stefano Sindaco consigliere Pogliagri favorevoli metto in votazione l'emendamento in questione favorevoli con ventiquattro voti favorevoli l'emendamento viene approvato agli altri tre emendamenti che si riferiscono invece alla proposta di delibera emendamento numero uno passo la parola al consigliere Gatti grazie presidente se me lo permette vorrei venire la discussione dell'emendamento uno e dell'emendamento tre va bene grazie fondamentalmente questi due emendamenti ripropongono in delibera i due emendamenti che abbiamo appena votato nel regolamento questo per necessità che fossero uniformi c'è solamente una specifica cioè che in delibera era previsto un divieto che non era previsto nel regolamento cioè quello di poter entrare esclusivamente con i pattini in linea mentre è una cosa che non era prevista dal regolamento e quindi dando il regolamento come punto focale su cui basare la delibera abbiamo proponiamo anche l'eliminazione di questo divieto dalla delibera grazie passiamo adesso a dichiarazione di voto però dell'emendamento uno città in comune consigliere Pagani favorevole grazie reinventiamo sesto consigliere Anne favorevole alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta favorevole lega salvini premier consigliere Pini favorevole forza italia consigliere Cupido favorevole partito democratico consigliere Maderloni favorevole gruppo misto consigliere Vincenzo favorevole amiamo sesto consigliere Molteni grazie favorevole fratelli d'italia consigliere Turolla favorevole di Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi favorevole metto in votazione sempre e solo il primo emendamento favorevoli con ventiquattro voti favorevoli l'emendamento viene approvato passiamo a dichiarazione di voto dell'emendamento numero tre città in comune consigliere Pagani grazie presidente favorevole reinventiamo sesto consigliere Amdi favorevole alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta favorevole rega Salvini Premier consigliere Appini favorevole forza Italia consigliere Cupido favorevole partito democratico consigliere Maderloni favorevole gruppo misto consigliere Vincelli favorevole amiamo sesto consigliere Molteni grazie favorevole fratelli d'italia consigliere Turolla favorevole di Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi favorevole metto in votazione l'emendamento numero tre favorevoli con ventiquattro voti favorevoli l'emendamento numero tre viene approvato facciamo l'ultimo emendamento proseguiamo con l'ultimo emendamento numero due passo la parola al consigliere Gatti grazie presidente in questo emendamento si applica anzi si elimina una limitazione che era prevista in delibera ma non era prevista nel regolamento da voi proposto ovvero che la l'amministrazione potesse limitare l'utilizzo skate park per gli interventi manutenzioni oppure per l'organizzazione di manifestazioni sportive ricreative con associazioni società o scuole si elimina il vincolo di per un massimo di trenta giorni come previsto dal regolamento da voi proposto grazie passiamo alla dichiarazione di voto sull'emendamento numero 3 2 parlo città in comune consigliere Pagani grazie presidente favorevole reinventiamo sesto consigliere Andi favorevole alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta favorevole lega salvini premier consigliere Pini favorevole forza italia consigliere Cupido favorevole partito democratico consigliere Maderloni favorevole gruppo misto consigliere Vincelli mi astengo amiamo sesto consigliere Molteni grazie il nostro voto è favorevole fratelli d'italia consigliere Turolla favorevole di Stefano Sindaco consigliere Pogliagli favorevole metto in votazione l'emendamento in questione favorevoli astenuti con 23 voti favorevoli e un astenuto l'emendamento viene approvato passiamo a questo punto esauriti tutti gli emendamenti presentati alla dichiarazione di voto della proposta di delibera così come emendata città in comune consigliere Pagani proposta di delibera grazie presidente favorevole reinventiamo sesto consigliere Ambi favorevole alleanza verdi sinistra consigliere Poggetta favorevole presidente mi permetta solo di mandare in questo senso un ringraziamento anche no 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 di mandare un ringraziamento a quella che è stata la l'assessora la partita Elena Iannizzi che da quel 2012 a quel di cui parlava il consigliere Valsecchi a quel 2016 di cui parlava il consigliere Garotta ha portato avanti e progettato e fatto partire quello che poi oggi finalmente vediamo concretizzato Lega Salvini Premier consigliere Appini grazie presidente mi permetto di far notare che dal 2012 fino a poco tempo fa non molto esattamente la data da quando? ah ecco fino al 2018 giusto sì terrazza bottoni ricordo benissimo l'assessore anche magro che si è occupata anche della bonifica e tutto il resto le ricordo che non è stato fatto assolutamente nulla era nel cassetto quindi per cortesia e ricordo anche aggiungo fuori da questo consiglio comunale gruppo di ragazzi che protestavano e venivano fatte false promesse che da lì a breve sarebbe partito il progetto non è mai partito fino al 2018 proviamo a contare 2012 2018 grazie il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliere Cupido favorevoli Partito Democratico consigliere Manderloni eh che lo scusa Gatti grazie presidente eh allora parto dal dal dire che anche vista l'approvazione degli emendamenti da noi proposti il voto del nostro gruppo sarà favorevole prima di tutto eh perché riteniamo che il progetto dello skate park sia un progetto positivo che ha delle che avrà delle ripercussioni positive che potrà dare spazio ad associazioni attività per i più giovani eh preziose e importanti per il territorio quindi siamo contenti di poter votare a favore ci tengo a ringraziare in maniera assolutamente seria eh gli uffici per tutto il lavoro che fanno ma non posso non segnalare a questo consiglio comunale che non esiste che una maggioranza abdichi alla volontà dell'opposizione di fare emendamenti che palesemente correggono degli errori perché se gli errori li abbiamo sollevati in commissione su questa delibera e li abbiamo emendati li abbiamo sollevati nella prima delibera in discussione oggi non li abbiamo emendati noi perché non era compito nostro e avete approvato una delibera che ha dei chiari errori quindi una maggioranza che dice meno male che ci sono i consiglieri di opposizione che ci pensano a sistemare degli errori è veramente un abdicare triste al ruolo del consigliere comunale gruppo misto consigliere Vincenni grazie presidente ma ehm qui il collega precedente eh e anche nella presentazione degli emendamenti parlava di gravi errori beh io qui vi do delle aggiustamenti per inserire i monopattini sostanzialmente perché questo è un po' di quindi fare un divieto dei monopattini elettrici e inserire i monopattini poi sulla questione chiaramente della limitazione signore per favore io mi inviterò ad andare sull'interazione io sinceramente io sinceramente ho detto questo però a parte il discorso della limitazione che eh sinceramente compreso e non compreso per il resto eh a me va bene ecco io sono molto d'accordo sui progetti che abbiano una visione sicuramente il progetto della visione di dell'assessore dell'ex assessore di inizio eh diciamo lo si deve chiaramente al al compimento di questa amministrazione e agli uffici chiaramente proposti grazie assessore Miranda e grazie chiaramente a tutti e eh a questo punto eh rendiamo rendiamo felici i i giovani i ragazzi anche a qualche magari meno 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 giovane come noi moderati del gruppo misto siamo favorevoli amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente mi dispiace che ci sia sempre non si possa prendere le cose così con una serenità e che si voglia sempre cercare la 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 polemica o il ricondito significato o l'incapacità eccetera era era proprio sereno il mio il mio intervento ma va bene così eh ognuno produce quello che che ha nel nel proprio sacco eh comunque il nostro voto sarà favorevole grazie Martini d'Italia consigliere Turolla grazie presidente provo a smorzare la polemica nel senso che sono venuto a conoscenza da parte dell'assessore che era stato concordato comunque che si sarebbero presentati gli emendamenti e quindi si è voluto lasciare il tutto così per non presentare poi due volte la delibera e corretta emendata eccetera mh concludo dicendo che nel senso va bene ha presentato l'opposizione non la maggioranza l'importante è l'obiettivo e penso che si sia raggiunto grazie Stefano Sindaco Consigliere Pogliaghi grazie presidente il nostro voto è favorevole metto in votazione la delibera in questione favorevoli con ventiquattro voti favorevoli la delibera viene approvata metto in votazione l'immediata eseguibilità favorevoli con ventiquattro voti dichiaro la delibera l'immediata eseguibilità della delibera passiamo adesso al quarto punto all'ordine del giorno approvazione verbale delle sedute consigliari dei giorni 18-12-2023 e 19-12 sempre del 2023 ci sono osservazioni in merito ai verbali nessuna osservazione tranquilli tranquilli non ho osservazioni metto in votazione l'approvazione dei verbali favorevoli con ventiquattro voti favorevoli i verbali vengono approvati passiamo adesso alle mozioni all'ordine del giorno partiamo con la prima mozione presentata dei gruppi consigliari di opposizione primo firmatario consigliere Maderloni avente ad oggetto misure a sostegno di una politica di uso sobrio e razionale della risorsa idrica passo la parola consigliere Maderloni per la presentazione della mozione stessa mi permetto di presentare la richiesta di ritiro della mozione in questo caso prendiamo atto e la mozione viene ritirata passiamo pertanto alla seconda mozione all'ordine scusi presidente posso richiedere il perché ritira la mozione il è lecito penso chiederlo e lo dico fuori dall'aula così non perdiamo tempo e discutiamo la mozione no io vorrei chiaramente saperlo chiaramente qui scusi lei ha portato avanti una mozione e io vorrei chiaramente sapere il motivo chiaramente perché viene ritirata grazie l'hanno ritirata pertanto si prende atto e si può procedere se non vuole il consigliere Maderloni dare specifiche ulteriori spiegazioni possiamo non possiamo che prendere atto del ritiro della mozione stessa pertanto riprendo il discorso la seconda mozione all'ordine del giorno presentata dai gruppi di opposizione primo firmatario consigliere Foggetta avente ad oggetto Giulio Regeni passo la parola al consigliere Foggetta per la presentazione della mozione presidente anch'io ritiro questa mozione ne prendiamo atto andiamo pertanto alla terza mozione all'ordine del giorno presentata scusi presidente ma posso chiedere se almeno effettivamente il consigliere Foggetta ci dice perché a questo punto ha ritirato questa mozione grazie siamo sulla stessa linea di prima poi se il consigliere Foggetta vuole dirlo bene altrimenti glielo diciamo fuori dall'aula sia io che Maderloni insieme prendiamo prendiamo atto per favore un po' di ordine in aula proseguiamo quindi stavo dicendo mozione presentata dal consigliere dall'opposizione a firma del consigliere Cagliani avente ad oggetto mozione urgente per la pace in Ucraina e il disarmo nucleare a sostegno del cessato e il fuoco in Ucraina di iniziative per il negoziato è una conferenza internazionale di pace e per percorsi di disarmo nucleare globale passo la parola al consigliere Cagliani per la presentazione della mozione grazie signor presidente io non la ritiro non avevo dubbi non la ritiro ma ci vuole spiegare il perché non la ritiro non la ritiro non la ritiro perché è una mozione presentata a fine settembre e primi di ottobri risulta in alcune parti purtroppo non dico superata ma andrebbe aggiornata per almeno alcune parti di questa mozione non certo per la richiesta di disarmo nucleare che è tuttora valida indipendentemente purtroppo da quello che sta che sta succedendo nel mondo allora non ve la leggo perché immagino che l'abbiate già letta essendo lì da fine settembre quindi avrete di sicuro avuto modo di leggerla vado per sommi capi a presentarla anche per rispetto a chi ci sta ascoltando fuori di questa aula o dei cittadini che non hanno avuto modo di leggerla quindi sarò molto sintetico nella presentazione sperando di usare le parole giuste per non fare un danno a questa mozione che parla di un tema che sta particolarmente a cuore al sottoscritto ma sta particolarmente a cuore a gran parte dei nostri cittadini che sul tema della pace o sul tema del cessare le guerre che ci sono in giro per il mondo naturalmente preoccupano preoccupano moltissimo moltissimo un po' un po' tutti allora nella premessa si fa naturalmente riferendosi solo all'Ucraina condanna una ferma condanna chiedo scusa io su questi temi gradirei che ci fosse un minimo di silenzio perché ritengo che il tema sia particolarmente importante poi è logico che chi non vuole ascoltare liberissimo di abbandonare l'aula nella premessa si parla con con molto significato di una ferma condanna dell'aggressione all'Ucraina da parte della federazione russa che potrebbe davvero contemplare il catastrofico utilizzo di armi nucleari sempre sempre nella premessa Papa Francesco invita tutti a parte i suoi appelli alla pace a fare tutto il possibile per scongiurare un conflitto nucleare dalle proporzioni inimmaginabili per la stessa sopravvivenza dell'umanità gli effetti di questa guerra e anche gli sforzi minano anche gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico gli effetti della guerra ripeto delle cose che probabilmente già tutti noi conosciamo però è giusto ripeterli gli effetti della guerra sulle popolazioni civili sono drammatici con la perdita di migliaia di vite umane gli obiettori di coscienza e coloro che si oppongono alla guerra vengono perseguitati incarcerati e privati di ogni diritto l'esigenza di porre riparo alle gravissime ricadute di ordine economico sociale che la guerra sta producendo in Europa e in Italia a causa dell'insostenibile impennata dei costi dell'energia e di molte materie prime l'abbiamo visto anche in sede di presentazione dei bilanci quando il sindaco sottolineava che questa difficoltà ha comportato problemi a parecchi oltre ai bilanci comunali a parecchie aziende che collaborano con il comune l'invio di armi sempre più pesanti non solo non accelera la fine del conflitto e l'avvio di un tavolo di pace ma al contrario alimenta il concreto rischio di una catastrofe anche nucleare non sto a dirvi che è due anni che siamo in guerra che sono purtroppo in guerra loro in quelle terre e poi da ottobre è arrivato anche il conflitto arabo-israeliano da qualche settimana abbiamo anche il canale di Suez che sta bruciando quindi da tutte le rilevazioni di opinione la maggioranza della popolazione italiana è contraria alla guerra la presenza negli arsenali la diffusione di armi nucleari rappresenta oggi una delle più grandi minacce alla pace l'Italia ha ratificato nel 75 il trattato di non proliferazione nucleare che impone a tutti gli stati parte di impegnarsi per realizzare il disarmo nucleare totale e globale e aderisce al trattato di non proliferazione nucleare in qualità di stato non dotato di armi nucleare noi come Italia poi sul nostro territorio ci sono le armi nucleari salto il paragrafo che parla di quante armi nucleari ci sono in giro nel mondo che potrebbero distruggere più e più volte la terra il trattato sulla proibizione delle armi nucleari che è quello di cui tratta questa mozione è stato negoziato e adottato con il voto positivo di 122 stati il 7 luglio 2017 aperto la firma il 20 settembre 2017 ha raccolto al momento la firma di 85 stati al momento settembre ottobre 2023 lo strumento di ratifica del cinquantesimo stato è stato depositato alle Nazioni Unite il 24 ottobre 2020 per cui il trattato è entrato in vigore il 22 gennaio 2021 il governo italiano pur avendo approvato il trattato di non proliferazione nucleare e i suoi rappresentanti non questo eh non questo qualsiasi governo italiano da quando è stata fatta questa richiesta hanno dichiarato in più occasioni di non avere intenzione di aderire a tale trattato l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleare si dovrebbe lasciare alle spalle la logica obsoleta della deterrenza nucleare fondata sulla sfiducia reciproca perché noi ci armiamo per paura che anche l'altro si armi e che quindi spari prima lui che non il sottoscritto ma andando avanti di questo passo non realizziamo assolutamente nulla ognuno di noi vive e conduce la propria vita sulla fiducia nel rapporto con l'altro io vado a prendere il pane ma non mi pongo il problema se il panettiere ci ha messo dentro qualcosa che mi possa far male vado in giro con la macchina con la speranza che quello di dietro freni quando io freno vado in fiducia ed è questa la caratteristica che dovrebbe dare un segno di svolta nelle nostre relazioni perché ormai la guerra in queste condizioni con le armi che ci sono in commercio non è più una roba possibile il comune di Sesto aderisce dal 1882 l'associazione Mayors for Peace la cui sede è a Hiroshima allora con questa mozione cosa chiediamo impegno la giunta comunale e sindaco per quello che può servire ma nel momento in cui sono non dico 8 mila comuni ma almeno 3 mila 4 mila comuni che sottoscrivono questa mozione allora fa peso fa peso specifico anche nelle stanze nelle stanze della presidenza del consiglio a sollecitare la presidenza del consiglio dei ministri affinché il governo italiano si attivi nei confronti dell'Unione Europea per una soluzione diplomatica che preveda l'immediata cessazione di ogni attività bellica e l'avvio sotto il coordinamento della stessa Unione delle Nazioni Unite di un tavolo negoziale tra Russia e Ucraina dopo due anni ormai è ora è tempo non so quante morti o quale tipo di distruzione può portare le persone a sedersi intorno a un tavolo a chiedere alla presidenza del consiglio dei ministri di dare asilo e protezione e riconoscere lo status di rifugiato politico agli obiettori di coscienza e ai disertori dei paesi coinvolti che non è una figura da disprezzare il disertore nel momento in cui la scelta viene fatta per motivi nobili non certo per lasciare ad altri la responsabilità di sparare a sostenere nella consapevolezza che va posta fine all'attuale escalation e che non esiste nessuna soluzione militare del conflitto le iniziative della coalizione Europe for Peace sia in ambito italiano che europeo e le proposte emerse che sono in ordine a questa mozione dalla conferenza internazionale per la pace in Ucraina di Vienna a sostenere e rafforzare tutte le iniziative umanitarie a favore delle popolazioni civili con particolare riferimento a quelle promosse dalla coalizione di associazioni sotto la sigala Stop the War Now con l'invio di aiuti e la fornitura di assistenza alla popolazione dell'Ucraina a promuovere l'adesione dell'Italia al trattato sulla proibizione delle armi nucleari sostenendo l'iniziativa per il disarmo nucleare scusate promosse dalla società civile in particolare aderendo la campagna Italia ripensaci Italia ripensaci per quello che vi ho detto poco prima perché l'Italia non ha mai discusso approvato voluto sottoscrivere questo trattato all'appello delle città promosso in tutto il mondo da international campagne di abolizione delle armi nucleari e all'appello per una repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari promosso dalle realtà cattoliche italiane questo è il testo della mozione io non so quanto tempo ho presidente a mia disposizione ha già superato i minuti però se vuole precisare ancora può farlo allora permettetemi di leggere queste poche righe sarò veloce la potenza distruttiva degli ordini bellici ha oggi raggiunto un grado così micidiale che si stenta persino a immaginare gli effetti di cui è molto difficile rendersi veramente conto la sola prova che gli uomini che noi abbiamo che hanno subito di questa potenza distruttiva è stata quella dello scopio di due bombe atomiche a Hiroshima e a Nagasaki ognuna di queste bombe ha raso al suolo letteralmente una città intera e ucciso centomila e più persone una bomba immagino che molti di voi avranno visto il film Oppenheimer che è un po' il padre di questa bomba e voi sapete quanto si è entrato in crisi Oppenheimer che addirittura poi non ha partecipato alla creazione della bomba della bomba nucleare fatta da Teller costruita da Teller una parte di queste persone sono morte subito un'altra a distanza di mesi e di anni ed è quasi passato di generazione in generazione ma oggi quella prova così tremenda sarebbe appena una pallida cosa rispetto alle possibilità di annientamento delle armi nucleari a disposizione di un numero crescente di stati per molti anni si è pensato che la dimensione così apocalittica che assumerebbe una nuova guerra mondiale fosse di per sé sufficiente a impedirla e si parlò di una pace che si posava riposava sull'equilibrio del terrore guardate che in questa affermazione c'era e c'è qualcosa di vero nel senso che l'equilibrio fondato sul deterrente atomico e nucleare ha certo contribuito ad evitare finora ad atti irreparabili ma fino a quando io dico e come può bastare l'equilibrio del terrore che è basato sulla sfiducia reciproca se le potenze atomiche non sono più solo la USA e la vecchia URSS le vecchie repubbliche sovietiche questo allarmante processo di estensione del numero di paesi che si sono dotati di armi nucleari risolleva e rende urgente la necessità di un grande movimento nazionale e mondiale che abbia un solo obiettivo arrestiamo la corsa agli armamenti siano messe al bando le armi atomiche nucleari non c'è uomo non c'è donna non c'è giovane che non possa essere conquistato a questa causa la corsa agli armamenti ha raggiunto proporzioni che moltiplicano e fanno crescere ogni giorno il pericolo di conflitti armati e portano a disperdere ricchezze in misura intollerabile in un mondo che vede ancora centinaia di milioni di persone patire e morire per il sottosviluppo per la retratezza per la fame per la sete e per l'epidemia non sono parole mie questo è Enrico Berlinguer 1976 grazie grazie a lei apro la discussione sulla mozione passo la parola al consigliere Turolla o consigliere Copido prego inizio ecco grazie presidente ma mi permette mi permette una battuta ehm al consigliere Vincelli probabilmente la mozione su Giulio Regini è stata superata grazie a Dio per l'intervento della Corte Costituzionale eh che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma del codice di procedura penale quindi verità per Giulio Regini noi ce l'avremo nelle aule del Tribunale di Roma il 4 di febbraio posto questo eh devo dire che consigliere Cagliani questa mozione ci ha molto provocati ehm e la spacchetto la spacchetto in due parti sicuramente mh sia a livello personale che a livello di partito eh noi siamo per la pace e questo lo dico eh a livello personale perché quando è scoppiato il conflitto con alcuni amici ci siamo proprio mossi concretamente alcuni sono anche andati in Ucraina a livello di partito perché sicuramente e a livello e a livello europeo e a livello governativo sono stati emanati una serie di decreti pro Ucraina che hanno previsto sicuramente tantissimi interventi e programmi di assistenza nei confronti di questa popolazione che è devastata dalla guerra in corso d'altro canto eh si pone la questione del nucleare ehm e noi non possiamo eh dimenticarci eh e qui parlo perché appunto appartengo al partito di Forza Italia eh che noi siamo atlantisti noi aderiamo ad una posizione europeista e quindi ci allineiamo in qualche modo a quelli che sono i valori occidentali è vero mh questa guerra ci sta insegnando che i conflitti durano durano nel tempo però credo anche eh e questo lo hanno detto anche ministri di recente che per poter arrivare all'adesione di un trattato eh che comporti appunto l'eliminazione del nucleare serve un approccio che sia un approccio progressivo articolato studiato e che coinvolga tutti i paesi che in questo momento hanno il nucleare che sono stati militarmente nucleari e quindi francamente mh la conclusione a cui siamo arrivati ehm ripeto questo non perché ehm come dire riteniamo eh questa mozione in qualche modo fuori luogo no? Perché ripeto ci ha molto provocato ne abbiamo molto discusso eh però l'epilogo a cui siamo arrivati è che stasera non possiamo che eh astenerci e quindi il nostro voto lo anticipo già eh seguirà questa questa linea ovviamente mi pare chiarissimo eh da quello che ho appena esposto ehm che il punto dell'assenzione non riguarda la pace il punto dell'assenzione riguarda proprio eh il nucleare perché non si può dire eh senza un ragionamento che sia un ragionamento eh come dire messo a punto e che coinvolga davvero tutti ok aderiamo a un trattato eh che preveda appunto l'abolizione di questo grazie passo la parola al consigliere Turolla grazie presidente intanto eh mi sarei aspettato nella diciamo nella presentazione della mozione il fatto di sviscerare un po' meglio ciò che c'è scritto invece si è rimasti nel senso si è ripetuto ciò che già c'è scritto magari il consigliere Cagliani potrà illuminarmi in fase di dichiarazione di voto o in fase di replica prendo ad esempio qua c'è scritto eh sostenere le iniziative della coalizione Europe for Peace e le proposte emerse dalla conferenza internazionale per la pace in Ucraina io potrei sapere o non sapere cosa significa ma in concreto non mi è chiaro quali siano queste proposte e iniziative se poi appunto il consigliere Cagliani volesse illuminarmi sono a completa disposizione parto con il titolo della mozione il titolo della mozione è pace in Ucraina e disarmo nucleare chi non sarebbe d'accordo mi viene da dire e il fatto di fare una mozione che preveda un voto e quindi preveda anche voti contari la ritengo personalmente un'offesa ma le dico di più nel corso della storia chiunque era per la pace persino Hitler che non è proprio uno senza mentalmente stabile che usa un eufemismo ha dimostrato alla conferenza di Monaco del 38 di essere favorevole all'annessione di territori quali i sudeti e la Moravia oggi parte della Cicoslovacchia così pacificamente senza l'uso delle armi vorrei sottolineare anche che non c'è bisogno dell'arma atomica per distruggere un'intera città penso che gli alleati ne abbiano data ampia dimostrazione ben prima di Hiroshima e Nagasaki con la tempesta di fuoco di Dresda ma arrivo al contenuto il trattato sulla proibizione delle armi nucleari come ha ben detto è stato adottato col voto positivo nel 7 luglio 2017 ai tempi il governo in carica e al governo Gentiloni quindi mi viene da chiedere perché non avete fatto pressioni sul vostro partito sul vostro premier per firmare questo trattato allora mi sono chiesto quale può essere il motivo per cui nessuno ad oggi ha firmato quel trattato l'unica spiegazione che mi è venuta in mente ad oggi però non so se sia questa è che l'Italia non produce e non possiede armi nucleari vengo poi diciamo al senso guardando appunto questa mozione che comunque parla anche un po' di storia mi viene in mente che nel corso della storia da che diciamo l'uomo esiste l'ambito bellico militare è quello dove da sempre si sono impiegate le migliori risorse anche e soprattutto intellettuali non è un caso che il ventesimo secolo il secolo considerato della terza rivoluzione industriale o della rivoluzione tecnologica informatica sia stato diciamo caratterizzato da due guerre mondiali e una guerra fredda che è durata più di quarant'anni non è un caso che in quella guerra fredda si sia arrivati a lanciare sonde nello spazio e all'allunaggio e era evidente in quel caso lo scopo bellico militare era evidente che si cercava di prevaricare sull'avversario quindi mi viene da dire certo siamo tutti per la pace però mi sembra un po' non vorrei essere rude però mi sembra un po' utopico come concetto quello del vogliamoci tutti bene e fidiamoci del prossimo un po' irrealizzabile mi viene anche potrei anche parlare del fatto che ricordate spesso la storia di Sesto San Giovanni io la ricordo e voglio parlare proprio della resistenza così magari il consigliere Foggetta sarà contento che uso questo termine resistenza che è stata fatta con le armi non si è andati pacificamente chiedendo scusate permesso potete lasciare il nostro territorio oppure a quelli dell'altra parte noi nazifascisti che spesso si si mischia in questa parola e direi ma no guardate diventate tutti antifascisti dai per favore cambiamo un po' e instauriamo una democrazia una repubblica potrei parlare di tutto ciò se non fosse che siamo in un consiglio comunale di Sesto San Giovanni e queste materie di politica internazionale non penso competano a questo comune non vedo qua il ministro degli esteri non penso di essere alla Farnesina e penso invece a ciò che può interessare il comune a ciò che può interessare la vita quotidiana di ognuno di noi a come il termine della pace si possa tradurre in un'azione concreta per ognuno di noi e allora mi viene in mente una frase di Gandhi che dice sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e pensando a questo dico quali azioni possiamo mettere in campo beh sicuramente possiamo evitare di appoggiare manifestazioni violente penso alle manifestazioni pro palestina che più pro palestina erano pro Hamas e la prova ne abbiamo l'abbiamo avuta giusto il 27 gennaio che penso tutti sappiate che il 27 gennaio è il giorno della memoria invece lo stesso giorno nel pomeriggio si manifestava a favore dello sterminio di Israele e degli ebrei un ragazzo coraggioso in una di questa manifestazione dalla finestra con un cartellone scritto in inglese che sostanzialmente chiedeva di liberare Gaza da Hamas è stato preso a insulti parolacce da parte di tutti i manifestanti questo dà un quadro diciamo abbastanza chiaro di cosa fosse quella manifestazione si potrebbe anche evitare di appoggiare delle manifestazioni quelle dei centri sociali che caricano la polizia si potrebbe evitare di appoggiare quelle persone che mettono a testa in giù esponenti politici di destra solo perché non la pensano come loro si potrebbe evitare di appoggiare tutti questi movimenti queste manifestazioni che seminano odio che sono contrari alla pace che però portano voti e quelli vi fanno comodo ma penso più nel concreto più nella città penso che anche in quest'aula si siano consumati dei dibattiti talvolta più che accesi aggressivi dove c'erano anche degli attacchi personali e questo in tutto ciò io non vedo la pace quindi quando parliamo di pace parliamone va bene discutiamone anche se la mozione non mi sembra lo strumento giusto ma va bene ma poi dobbiamo tradurlo in qualcosa di concreto non basta proclamarla grazie altri interventi in aula grazie presidente buonasera buonasera a tutti i cittadini anche collegati ma direi che i miei colleghi hanno spiegato molto bene un po' l'ambiguità che c'è ci può essere dietro la presentazione di una mozione di questo tipo all'interno di un contesto che è sicuramente complesso ed esula dall'operatività alla quale è chiamata questo consiglio bisogna essere oggettivamente anche molto realisti personalmente è stato anche detto io ne faccio anche proprio una mia un'espressione della mia persona è chiaro che quello che sta avvenendo nel mondo è una cosa aberrante stiamo assistendo a direi a delle brutture se così possiamo definirle che avremmo voluto dimenticarci molte delle quali sicuramente sono continuate anche nel silenzio dei media perché le stragi di Pol Pot e via andare giusto per dirne qualcosa di recente quindi non è che dica non dobbiamo sensibilizzarci a questo perché tanto ce n'è stato già dell'altro ma così come lo stiamo facendo per questo avremmo dovuto farlo anche altre tante altre volte dove purtroppo i media sono stati molto molto più silenziosi vado un po' a braccio perché è un pensiero molto vivido che ho dentro la questione di questa incapacità di alla fine abbassare quello che è l'interesse personale perché alla fine dietro queste è quasi bizzarro se ci pensiamo bene che cosa ci possa essere dietro dietro quello che sta succedendo ci sono pochi uomini potenti che hanno la possibilità di dire sì o no però forse questi uomini anche loro sono loro stessi schiavi di quello del contesto in cui si trovano e e questo ci deve far riflettere perché comunque il fare politica vuol dire non solo esprimere se stessi ma esprimere probabilmente anche un contesto in cui ci si muove quindi per dire che è un paese che si rappresenta e questo pone tante domande perché rispetto a quello che sta accadendo oggettivamente è molto seria la questione ed è tanto seria che quindi si riporta ed è qua il passaggio che ripercorro un po' è stato riproposto molto bene molto bene dal dal collega Turolla cioè io sono io noi siamo assolutamente d'accordo sulla questione della pace quindi su questo non ci piove per fortuna il tema è cosa possiamo fare noi perché probabilmente sia arrivato a questo livello internazionalmente parlando perché forse non c'è stata recentemente anche la capacità di un'interazione qua c'è una domanda molto lunga no? cioè sulla su quanto l'Europa anche l'Europa poi si sia stata capace di coltivare un certo tipo di relazione proprio con quella parte che adesso sembra così sembra così ostile poi non dimentichiamo che noi vediamo l'effetto di parlavo proprio col vescovo dell'Ucraina un vescovo ucraino parlavo proprio con lui e quello che è esploso recentemente è un bubone che è dentro da generazioni così come la questione palestinese cioè lo sappiamo tutti poi dopo uno può fare strumenti cioè può strumentalizzare tutto come succede anche qua dentro per cui diventa difficile alla fine riuscire a dare a chi soprattutto non è dentro la vita politica riuscire a dare quella lucidità di giudizio riuscire a passare quella lucidità di giudizio che il contesto politico poi è un po' sporca questo è per ridire che non è l'ambito giusto dove presentare questo tipo di emozioni noi ci asterremo per ovvia ragione nel senso che l'abbiamo detto ci sono degli equilibri internazionali dentro le quali l'Italia è storicamente protagonista posso dire meloni o non meloni anche con draghi comunque c'è stata una posizione italiana sempre di dialogo di incontro e questo è una cosa di cui noi dobbiamo essere gelosi però ripeto non dobbiamo essere idealisti dobbiamo essere molto concreti e tradurre provare a tradurre questa provocazione che accogliamo in un certo senso all'interno di questa accogliamo anche in quest'aula riportandola anche a un livello locale perché quella capacità di dialogo è quella che evita che l'uomo si muova da solo e questo io lo sperimento tutti i giorni nel mio vivere quotidiano nel mio piccolo quartiere dove quando vedo le persone che sono totalmente non curanti anche banalmente del bene pubblico l'ho detto in altre sedi di consiglio allora lì mi faccio delle domande ed effettivamente cosa ci vedo dietro ci vedo dietro sempre più solitudine e quando l'uomo non è capace di relazione si intristisce si incubisce perché non capisce più il valore dell'altro e quindi diventa violento perché usa quello che ha intorno alla fine per affermare se stesso in un solipsismo che non lo porta da nessuna parte se non all'autodistruzione questa è la responsabilità e quindi faccio molto mio quello che diceva Turolla prima è la responsabilità che noi abbiamo quindi va bene sensibilizzarsi su queste questioni su queste tematiche ci mancherebbe siamo cittadini nazionali internazionali nel mondo dobbiamo essere presenti e sicuramente combattere ma combattere in tutte le sedi intime che la quotidianità ci pone davanti richiamandoci ad una responsabilità per il bene comune che parte dalle cose più piccole grazie altri interventi in aula passo la parola al consigliere Maderloni poi ritorno di qua grazie presidente parto da da una prima considerazione che è quella che la presentazione di questa mozione innanzitutto non è una strumentalizzazione da parte nostra ma è un raccogliere un appello pubblico che associazioni del nostro territorio hanno fatto su un tema a seguito di un percorso che continua pochi giorni fa lo stesso presidio per la pace da cui partita la la proposta di mozione ha organizzato un momento di riflessione e quindi questa mozione non vuole strumentalizzare una parte o l'altra ma vuole porre un tema un tema che parte dalla convivenza e dalle regole che ci diamo noi siamo fortunati perché ci troviamo in una parte di mondo che da dopo il 1945 non ha subito guerre esplicite non ha subito guerre perché ha visto lavorare in una logica cooperativa e di pace le nazioni ora noi come Comune di Sesto non siamo un'isola sperduta nell'universo ma siamo una porzione di Stato una porzione di territorio che ha il diritto di far valere quelli che sono innanzitutto i principi in cui crede e una città come la nostra che è stato ricordato ha ricevuto la medaglia d'oro al valore militare per la resistenza e la liberazione l'ha ottenuta anche grazie al fatto che è stato ricordato nei giorni scorsi con la posa di ulteriori pietre di inciampo da persone che non hanno militato in formazioni politiche ma che hanno con le loro azioni di sciopero sabotato e contribuito a ottenere la liberazione del nostro paese dall'occupazione nazifascista ora il tema della pace si declina come si diceva nella quotidianità io sono d'accordo su questo si declina nel quotidiano con azioni e con attenzioni ognuno poi lo fa con le proprie sensibilità e con le proprie attenzioni siamo umani non siamo perfetti è possibile che a volte si possa sbagliare il tema però qui è qual è il ruolo che l'ente pubblico l'amministrazione deve fare e noi crediamo che sostenere questa mozione che spinge a evitare che si continui si procrastini in modo sempre più massiccio drammatico la soprafazione dell'uomo sull'uomo perché è vero che l'Ucraina è forse la guerra più vicina a noi come Europa ma come stato ricordato esistono altre guerre che ce ne sono che sono meno 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 conosciute perché anche la stampa fatica a raccontare certe cose ma ciò non toglie che se noi ci sensibilizziamo e sosteniamo dei percorsi virtuosi di pace è più probabile che quelle altre situazioni possano essere in qualche modo attenzionate maggiormente e si permetta alle persone di condurre o di aspirare a condurre una vita pacifica e una vita migliore è vero anche il ruolo che la richiesta di innovazione viene dal comparto militare abbiamo delle aziende che producono questo genere di prodotti e che hanno permesso di portare poi nella vita reale delle innovazioni che hanno facilitato la vita però pensiamo che allo stesso modo le idee di pace le idee e gli esempi di riconciliazione che nel mondo ci sono stati anche in questo secolo nel secolo scorso tanto martoriato possano essere esempi illuminanti per indicare un cammino che non possa non essere quello della pace e della convivenza pacifica che parta dal rispetto del fatto che noi non siamo padroni della terra noi siamo di passaggio sulla terra e che quindi dobbiamo consegnare questo pianeta alle future generazioni e pensare che non non vogliamo astenerci o vogliamo meglio ancora scusatemi voltarci dall'altra parte perché pensiamo che la pace non ci tocca perché noi viviamo in un'epoca pacifica penso che sia che sia sbagliato penso che sia proprio sbagliato come idea di futuro che una comunità ha le comunità devono tendere al pacifismo non possono pensare di vivere sapendo che la persona a fianco o la persona che abita o che parla una lingua diversa possa vivere con l'obiettivo di di volere la mia sopraffazione ma a volte l'impegno che si chiede e che sta dietro anche le politiche di pace e di cooperazione sta anche nel portare sviluppo nel portare democrazia e la democrazia è anche il rispetto e il confronto delle idee il concetto di pace che in qualche modo io colgo in questo appello che su queste associazioni varie laiche e non hanno fatto e continuano a fare va in questa direzione cioè in un'idea di una società che sia inclusiva che sia dialogante che sia accogliente e che soprattutto concentri i propri i propri sforzi di indirizzo politico verso direzioni che non prevedano o che abbiano come principale obiettivo la diffusione di benessere e soprattutto di creare opportunità e di mettere i talenti che sono insiti negli animi dell'uomo in una opportunità di sviluppo e di crescita sia per i bambini che le bambine del futuro questo deve essere questo è l'impegno che mi aspetterei che un'amministrazione voglia comunque portare avanti nei limiti noi non pretendiamo che il sindaco una volta che questa mozione possa essere approvata risolva la pace nel mondo vi lo auguro che possa farlo e che possa anche vincere il premio nove per questo però sappiamo anche che il suo la sua attenzione così come quella dei altri 8000 sindaci delle città possano avere un impatto possano accendere un'ulteriore scintilla un'ulteriore luci su questo concetto e su questo modo di intendere la società e le società nel nostro sul nostro pianeta altrimenti il rischio è quello che citava il consigliere Pogliaghi ci isoleremo sempre di più con la propria scusi Ghezzi perdoni l'età avanza e confondo nomi con tutti in famiglia tutti con nomi diversi e quindi ripeto e concludo votare a favore di questa soluzione e incentivare anche in futuro il presidio per la pace a produrre ulteriori momenti di riflessione in città magari anche coorganizzando le iniziative su questo tema penso che possa essere un'ultimissima cosa insomma in quest'aula consigliare è anche riportato l'articolo 11 della nostra Costituzione che in qualche modo ha a che fare con questo tema e credo che sia giusto che in quest'aula si possa discutere di questo grazie grazie a lei passo la parola al consigliere di recupero grazie presidente la mia e penso la nostra posizione dall'inizio del conflitto si è mostrata chiara condanna senza alcun tentennamento dell'aggressione unilaterale della Russia all'Ucraina stato sovrano con la richiesta di un'azione forte politica dell'UE e della Nato a sostegno dell'azione del governo in questo particolare e drammatico momento storico il mio nostro voto sarà di astensione sulla mozione sulla mozione dell'opposizione motivato da ragioni espresse a titolo meramente personale perché mi crea perplessità sulla presa di posizione richiesta al consiglio comunale e alla giunta ritenendo che esuli dal ruolo dell'istituzione evitando di soffermarmi sulle solite parole d'ordine della sinistra spesso prive di significato una mozione presentata all'opposizione molto attenta nel segnalare errori o altro pensavo appunto che fosse farina del proprio sacco non è altro un copio in colla che è proposto sul sito sbilanciamociinfo.org del 18 aprile 2023 allora di cosa parliamo se non modo operandi del PD se stese a somminizzare ogni cosa non ultima permettetemi se faccio una deviazione in gergo calcistico un autogol sulla questione del Gias Basket è quello che mi fa pensare riflettere che è stata riportata da attestate giornalistiche locali e non solo senza un serio controllo sulla vericità della notizia notizia subito sventita dal Gias precisando i motivi che sono dettati dalle norme della federazione basket esulo l'ho detto già prima la democrazia adesso non facciamo i batti ribatti sarà un mio pensiero invece proporre l'integrazione di una via di una piazza o un luogo pubblico cittadino all'Ucraina come segnale di vicinanza di fratellanza amicizia nel confronto del popolo ucraino aggredito sono convinto che a nessuno di noi la guerra sia la soluzione migliore l'unico appello a quello del buonsenso è che cessino le armi e prevalga il dialogo e che questa guerra si fermi ora la pace non è solo l'unico desiderio che accumula ai popoli ma è anche l'unica salvezza per noi tutti grazie grazie a lei altri interventi considera Pagliani prego sì grazie presidente allora provo a cercare di spiegare alcune cose dal naturalmente punto di vista di chi ha aderito alla sottoscrizione di questa mozione come gruppo di città in comune quindi quelle che sono le motivazioni che ci hanno portato a sottoscrivere la mozione partendo dalla annotazione principale che è stata fatta e che ribadisco probabilmente il consigliere recupero al consigliere recupero spero solo a lui è sfuggita allora prima cosa questa non è una emozione elaborata dalle forze politiche di opposizione questa è una mozione che è stata presentata pubblicamente dal presidio per la pace che è composto da 26 associazioni del territorio prima cosa questa mozione non è che viene presentata oggi a Sesto San Giovanni e prima di allora non se ne è mai parlato in assoluto è stata presentata in molti comuni perché il testo è stato elaborato e condiviso da più associazioni che semplifico hanno a che fare con il tema della pace allora molti comuni hanno votato favorevolmente a questa mozione non credo che abbiano attaccato l'equilibrio del patto atlantico perché francamente lo troverei alquanto ridicolo aggiungo un'altra cosa il presidio per la pace è un insieme di un pezzo di comunità se stese non è prerogativa di nessuno ma se non è prerogativa di nessuno nulla vieta che ci siano confronti da parte di tutti perché questo presidio a me risulta essere sempre stato aperto al confronto la documentazione la richiesta l'invito la presentazione la mozione ad essere presenti quando è stata presentata pubblicamente non è mica arrivata solo a Mari Pagani che è arrivata a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale a me mi viene da dirvi però interrogatevi perché voi sbagliate a priori a non a non aprire interlocuzioni con i soggetti si può non essere d'accordo si può essere d'accordo a metà si può essere profondamente in disaccordo ma siccome qua ci dite che se non ci confrontiamo viviamo nella nostra solitudine io ve lo ribalto perché a me sembra che la posizione che voi state assumendo oggi sia una posizione di profonda solitudine politica perché qua ci sono due temi grossi è vero la mozione mette due temi importanti insieme la pace e il disarmo nucleare allora se li spacchettiamo così come dire cogliamo il metodo che ci viene proposto anche dall'altra parte come stimolo non voglio essere assolutamente provocatoria mi viene da dire questo che per quanto riguarda il disarmo nucleare allora io credo che questo sia un impegno di tutti anche qui io sento delle parole che francamente fatico a condividere nell'ambito dei contesti ho sentito la parola realismo bisogna essere realisti io credo che non ci sia realismo più grande non che interesse personale permettetemi ma anche come individui ma oltre che come soggetti come collettività come istituzione cittadina come paese di come dire evitare interrompere si parla di disarmo disarmo non è soltanto l'interruzione della produzione di armi nucleari ma è anche togliere quelle che già ci sono dovrebbe essere un nostro interesse perché guardate che le armi nucleari guardano in faccia le parti poi quando appunto partono sono assolutamente democratiche e dovrebbe esserci una preoccupazione oggi ancora maggiore perché a fronte del contesto bellico nuovamente bellico e profondamente bellico che mi viene da dire che c'è stato in quest'ultimo periodo e sappiamo tutti benissimo quale è e francamente c'è stata anche una rincorsa agli armamenti compresi quelli nucleari allora il tema non è far parte soltanto di un patto atlantico o non farne parte il tema è a letto del fatto che voglio dire cioè gli equilibri del mondo sono diventati molto più complessi rispetto a quando è stato costituito il patto atlantico ma in ogni caso ma in ogni caso io credo che dovrebbe essere interesse di ciascuna nazione che ha buon senso e che è profondamente realista perché l'obiettivo è quello di garantire la sopravvivenza al paese ma mi viene da dire anche in maniera utilitaristica a noi stessi che non è che propriamente è una cosa negativa da questo punto di vista quindi io credo che realismo interesse personale nel senso più positivo del termine perché si condivide poi con una soggettività dovrebbero essere motori per accelerare e non per rallentare il ragionamento sul disarmo nucleare questo e io credo che mai come oggi questo sia particolarmente importante perché abbiamo anche a che fare con soggetti come dire non particolarmente tranquillizzanti dal punto di vista della gestione del potere che occupano nel mondo io credo che ci siamo spaventati tutti quanti e continuiamo ad essere profondamente spaventati dai conflitti che sempre di più stanno emergendo quando abbiamo presentato questa mozione facevamo riferimento ad una sola guerra adesso come dire non c'è una sola guerra nel mondo però facevamo riferimento ad un conflitto come dire in Europa a sola guerra e oggi stiamo vivendo situazioni come dire ancora più darmatiche che testimoniano come e qui si passa perché cioè le armi sono la conseguenza sono prima di tutto la conseguenza di un approccio perché scusate non possiamo dire io non penso che sia giusto vi dico il mio pensiero non potete dire vi dico il mio pensiero non è possibile parlare di pace e non essere pacifisti e scusate quando si è pacifisti secondo me bisogna essere radicali pacati nei modi ma radicali nelle espressioni nel convincimento nell'affermare questo valore e anche tutte le conseguenze che porta a assumersi un valore perché noi non possiamo dichiarare e non fare niente questo è il punto di fondo io volevo leggervi una cosa che ho letto oggi è una dichiarazione di recente che mi ha nuovamente colpito profondamente questa dichiarazione è del tanto tantissimo per milioni di motivi ma soprattutto per questo tema di Papa Francesco quindi molto citato che dice la guerra è sempre solo una sconfitta per tutti gli unici che guadagnano sono i fabbricanti e i trafficanti di armi è urgente un cessate il fuoco globale non ci stiamo accorgendo o facciamo finta di non vedere che siamo sull'orlo dell'abisso ma ciò significa incalza il giornalista che non esiste una guerra giusta e Papa Francesco risponde se i ladri entrano in casa e ti aggrediscono ci si difende ma non mi piace aggiunge chiamare questo guerra giusta chiamare questa reazione guerra giusta perché è una definizione che può essere strumentalizzata a proposito di strumentalizzazioni per favorire per favore scusate parliamo di legittima difesa in modo di evitare e giustificare le guerre che sono tutte e sempre sbagliate a me sembra che la pacatezza dei toni di questo uomo dimostri invece una grande risolutezza una grande radicalità del pensiero e io credo che i cambiamenti passino attraverso la radicalità dei pensieri da questo punto di vista mi viene da dire che da Atea non come dire è una dichiarazione che ho fatto più volte lo considero un grande punto di riferimento in questo momento rispetto ad un movimento per la pace che ha molti soggetti ecco rimango un po' perplessa perché mi sarei aspettata che questo punto di riferimento fosse anche come dire stimolo e forza insomma nell'affermare questo al di là della mozione perché non è solo una questione di votare l'assenzione alla mozione è quello che ho sentito sono le parole che ho sentito che francamente non riesco proprio a condividere chiudo dicendo quest'altra cosa io credo che uno dei punti importanti relativi agli impegni che questa mozione avrebbe chiesto al sindaco ovviamente come ribadisco prima non credendo di mettere in discussione nessun patto internazionale e soprattutto con l'idea e l'abbiamo discusso anche prima in un'altra delibera che comunque le istituzioni danno delle indicazioni e io concordo quando le istituzioni sono tante impegnano comunque il nostro paese io chiedo che credo che un altro impegno significativo sia quello di chiedere alla presidenza del consiglio di ministri di dare asilo e protezione e riconoscere lo status di rifugiato politico agli obiettori di coscienza e disertori dei paesi coinvolti io a questa cosa ci credo profondamente perché credo che bisogna obiettare contro la guerra e contro le armi non sono un idealista sono una persona estremamente concreta che compie delle azioni per cercare di realizzare i valori nei quali crede la pace è un valore e si realizzerà quando almeno la maggioranza più uno ci crederà deve essere un interesse politico importante perché la vendita delle armi e la produzione delle armi è un altrettanto interesse politico importante e questo non va dimenticato grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Molteni grazie presidente allora io generalmente quando faccio i miei interventi sono sempre a braccio però sempre chiaro dove voglio arrivare e quello che voglio dire nonostante magari la mia sintassi a volte così sgrammaticata o intrisa di espressioni dialettali in questo momento sono in grossa difficoltà a cercare di fare un discorso filante ma provo a farlo lo stesso purtroppo sono quasi sicuro che quanto mi appresto a dire verrà strumentalizzato verrà usato verrà trovate voi il termine che meglio preferite la riprova l'abbiamo avuto anche stasera quando io non volevo minimamente polemizzare prima quando avevo detto con serenità sugli emendamenti e subito è stato preso in un dato modo per cui è probabile che tutto quanto andrò a dire adesso farà la stessa fine allora premetto che con toni diversi però purtroppo quello che è stato detto per esempio dal consigliere Turolla anche da altri non è falso tutti ci vestiamo dei panni dei pacifisti delle brave persone che vogliamo la pace nel mondo e poi anche nelle occasioni scusate questo è un po' però anche nelle occasioni dove si dovrebbe parlare pur ricordando parlare di pace i discorsi sono ancora intrisi magari di un di una rabbia e sono elegante a definire la rabbia come è successo per esempio anche nella giornata della memoria mi è sembrato che il discorso fatto dal nostro vice sindaco fosse quanto mai equo quanto mai onesto quelli che hanno seguito non sono stati proprio così celebranti solo chi ha dato la vita per un ideale e per una libertà e onore ci mancherebbe sempre intrisi di un qualche cosa poi sono quelli che però magari vanno a manifestare per la pace e fanno parte dei comitati però perciò questo per quello che io dico che saranno usate però personalmente io non rappresento un partito presente nello schieramento nazionale non perciò non devo rispondere a scelte di governo noi siamo forse a volte qualcuno l'aveva anche messo in dubbio e vabbè liberissimo di farlo non voglio credere vogliamo credere a quanto detto prima presentato dal consigliere Cagliari siamo siamo un po' poco come posso dire quello che dicevo prima convinti che questo sarà così sereno non la serenità non non alberga da noi purtroppo però non me la sento non ce la sentiamo adesso io rappresento delle persone anche se in questo momento sono qui da solo non me la sento di non votare a favore di questa mozione il mio voto sarà favorevole una voce fuori dal coro e sono purtroppo sicuro che questo verrà strumentalizzato verrà detto ah in crisi crepe nella maggioranza perché è sempre stato così non potrà essere diversamente però lo voglio dire perché almeno lo dico prima che non è così è che in fede non me la sento voglio credere alla bontà di tutto questo perché non può essere che così non può non essere buono però poi siamo spesso dei sepolcri imbiancati signori dai non nascondiamocelo anche queste cose anche questi gruppi spesso sono strumentalizzati nonostante rappresentino il bello di tanta popolazione di tante però così è però al di là di tutta questa mia costatazione io in fede non me la sento di votare contro ma neanche astenuto per cui il mio voto sarà favorevole fermo restando che sono sicuro che tutto questo mi porterà solo dei danni ma va bene non dai miei amici perché per me sono amici non solo compagni di percorso va bene questo era quello che mi sentivo di dire grazie grazie a lei consigliere Molteni ci sono altri interventi consigliere Vincelli e poi consigliere Appini consigliere Appini hai la parola consigliere Appini consigliere Vincelli grazie grazie presidente e come non essere d'accordo con le parole di Papa Francesco però io ogni tanto ho sempre abbastanza impresso una frase di Sant'Agostino il quale dice anche facendo la guerra si dunque ispirato dalla pace in modo che vincendo tu possa condurre al bene della pace coloro che tu sconfiggi ora anche in sedi di capigruppo ho evidenziato un problema di questo tipo cioè il perché effettivamente parlare solo dell'Ucraina Russia forse perché è vicina forse perché effettivamente dal punto di vista economico ci ha danneggiato perché vorrei ricordare come ho ricordato nel capigruppo nella sede nelle sedute di capigruppo che esistono 57 guerre nel mondo 57 guerre e quindi dico cioè perché oggi ci fermiamo stasera ci fermiamo solo sulla questione chiaramente Ucraina Russia perché è una questione economica è una questione politica è veramente una questione di pace beh chi può essere qui all'interno di questa sala consigliare contro la pace io penso nessuno qui il discorso della politica in questo momento non c'entra in questo momento davanti a un un concetto un ragionamento c'è un valore importante come la pace siamo tutti apolitici quello che però mi dà un po' fastidio è una questione di imposizione cioè il contenuto in sé e questo in qualche modo avevo fatto presente a Cagliani va bene sono quel impegno aggiunto e sindaco che poi dice tutto e non dice nulla perché questa associazione che da parte sua no da parte sua sta facendo chiaramente un impegno e va bene ok cioè è come se questa è come se i comuni è come se il governo è come se l'Italia stessa non sa da dove effettivamente iniziare o come chiaramente finire chiaramente questa questa questo questo problema questo grosso problema ma non è così non è così perché la questione chiaramente Italia se noi andiamo a vedere il discorso del trattato già nel 2016 sotto il governo chiaramente Gentiloni non ha ratificato chiaramente il trattato di cui stiamo appunto parlando anche oggi siamo fuori chiaramente questo trattato guarda caso da questo trattato sono fuori effettivamente diverse diverse potenze molto importanti potenze economiche del mondo quindi alcuni punti sì mi possono andare bene altri secondo me no altri secondo me no poi voglio anche aggiungere voglio anche aggiungere che noi come comuni di Sesso San Giovanni attraverso la consulta delle imprese noi concretamente abbiamo fatto qualcosa noi concretamente abbiamo aderito a un progetto Bridge of Trust che è la ricostruzione in Ucraina dei comuni dove in ehm abbiamo portato all'interno chiaramente di Sesso San Giovanni una eh comitiva di sindaci ucraini quindi quando ci sono stati chiaramente degli attacchi eh negli ultimi periodi dopo chiaramente il nostro incontro dove ci sono stati chiaramente bombardamenti e eh vittime noi siamo sempre stati vicini chiaramente a alcuni comuni come Losova come Poimanschi come Nemischia cioè la Sesto Sesto può dire che in modo concreto è stato vicino a questi comuni di Ucraina sulla questione chiaramente della pace eh giustamente ritorno a dire che nessuno qua vuole escludere effettivamente cioè il concetto pace da da quello da quello che effettivamente è no quindi tutti siamo favorevili al discorso della pace però purtroppo personalmente personalmente questa imposizione di alcuni punti in particolare anche del punto chiaramente cinque dove effettivamente cioè non basta dire promuovere l'adesione dell'Italia ma addirittura effettivamente bisogna entrare effettivamente all'appello della città alla alla aderendo alla campagna in Italia ripensaci no io non passo effettivamente da 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 un da un da una libertà a a un sentirmi in qualche modo effettivamente imposto un qualcosa quindi io sarò chiaramente cioè non potrò essere né favorevole né contrario sicuramente e quindi mi terrò e mi riterò di essere di astenermi chiaramente a questa a questa a questa mozione penso sempre che si possa riparlare in in un secondo tempo non solo di Ucraina e le Russia ma anche di tutte le cinquantasette guerre cioè perché effettivamente non presentano anche altre altri documenti queste e fanno girare solo questo forse perché i in altri in altri chiaramente paesi sono meno economici sono meno interessanti purtroppo chiaramente questo mi fa anche pensare comunque grazie altri interventi se non ci sono più interventi dichiaro chiusa la discussione no mi pare che abbia rinunciato vuole la parola si rifoggetta no no sì sì prego due anni fa questo è un po' quello che si continua a dire tanto a livello mediatico due anni fa è tornata la guerra in Europa io ci tengo sempre a ricordare scusi presidente mi scusi ma è una dichiarazione di voto o no 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 siamo sempre in fase di discussione ma il ha già parlato progetto no allora mi scuso mi scuso faccio vigna mi sembrava che avesse già parlato no no prego giuro che no consigliere Vincenzo no io voglio ricordare che la guerra in Europa non è tornata due anni fa aveva ragione il consigliere Maderloni nel dire che noi viviamo in una parte di quell'Europa che per nostra fortuna e io continuo a dirlo ringrazio anche che in quel famoso 45 noi siamo finiti in questa parte di Europa e non in un'altra ma noi facciamo parte di quella parte di Europa che per fortuna sempre non è mai caduta in certe situazioni in certe bellicosità in certi brutti contesti però in Europa la guerra c'è c'è stata c'è stata c'è stata durante le non c'è stata durante l'epoca delle grandi dittature della grande dittatura quella legata al mondo sovietico fino al all'89 al 91 ma dittatura non può essere l'alternativa alla guerra c'è stata subito dopo c'è stata con la guerra in Jugoslavia c'è stata con il Kosovo c'è stata con c'è stato dal 2014 anche questo va ricordato quando in Ucraina stessa sono iniziate grosse bellicosità tra una parte e l'altra tra Kiev e alcune regioni ucraine quelle del Donbass e della della Crimea e c'è da due anni in in Ucraina quando e questo è scritto nella primissima nel primissimo punto della di questa mozione quando eh la Russia ha invaso un paese sovrano qual era l'Ucraina facendo qualcosa che nessuno può nessuno almeno qui dentro può non condannare e quindi la guerra in Europa c'è stata c'è sempre c'è c'è da sempre eppure quello che a me più fa arrabbiare tra le tante cose che ci sono scritte su questa mozione è il primo punto degli impegna dove si chiede a noi come consiglio comunale di sollecitare il Parlamento perché solleciti l'Europa a me fa vergognare che in un un continente come l'Europa che ha vissuto un terribile novecento non stia e non abbia mai preso una posizione da protagonista per evitare le nuove guerre e non lo stia facendo in questo momento anzi forse più che mai lo sta non facendo in questo momento da quando è iniziata questa guerra ufficialmente due anni fa sono arrivate diverse proposte di percorsi diplomatici è arrivato sono arrivate le proposte di India del Brasile della Cina del Sudafrica del di di città del Vaticano con quella missione bellissima che ha portato avanti il il Monsignore Zuppi non è arrivato nulla non è mai arrivato nulla né di concreto neanche di di aleatorio da parte di quell'Unione Europea che forse per prima avrebbe invece dovuto dovuto muoversi e dovuto spendersi l'unica volta in cui l'Unione Europea si è mossa è stata forse l'unica volta in cui poteva stare ferma e stare in silenzio quando attraverso una risoluzione del Parlamento Europeo ha dichiarato la Russia paese terrorista e popolo terrorista ecco io non non dico che questo sia stato sbagliato perché sono dalla parte di quella di quell'invasione o perché sono amico di quel governo ma perché questo è il modo migliore per consegnare ulteriormente quel popolo che è il popolo russo nelle braccia di quel governo e soprattutto di quella di quel capo di governo che è Vladimir Putin che è il vero responsabile di quella di quell'invasione perché dentro quel popolo e qui c'è scritto sia dentro il popolo russo che anche dentro il popolo ucraino ci sono diverse centinaia forse migliaia di persone che stanno in tutti i modi lavorando per evitare cercando di evitare di andare a farsi ammazzare ad ammazzare in territorio di guerra e noi non possiamo lasciare che queste persone rimangano completamente isolate dichiarando anche loro anche loro come parte di un popolo di un popolo terrorista l'altro grande convitato di pietra l'altro grande assente di tutta questa situazione è l'ONU è l'ONU una struttura che dovrebbe essere qui si parlava di atlantismo prima siamo in un paese atlantista siamo in un continente che è sempre più atlantista ma a quello che è il patto atlantico io continuo a preferire quello che dovrebbe essere l'organizzazione delle Nazioni Unite il patto atlantico è qualcosa che interviene quando le bellicosità ormai sono andate avanti io preferisco sono sono sempre di quelle posizioni di chi preferisce che non si arrivi a contesti di bellicosità ma si evitino e per evitarle dovrebbe muoversi quella che è l'organizzazione delle Nazioni Unite ma che oggi nel 2024 possiamo dircelo vive di strutture a dir poco anacronistiche parliamo di un'organizzazione dove cinque paesi tra l'altro cinque paesi che sono quelli più in conflitto tra di loro storicamente hanno un diritto di veto tale per il quale l'ONU non ha neanche tentato di provare a trovare delle vere risoluzioni per quella che è della crisi in Ucraina perché tanto interverrebbe la Russia con il proprio diritto di veto ed è la stessa cosa che succede per quanto riguarda quell'altra grande scenario bellico bellico di questo periodo che è quello del Medio Oriente Europa ONU scendiamo un po' più in basso e c'è e c'è l'Italia che sentivo prima essere sempre stata protagonista nelle alleanze internazionali nell'alleanza atlantica no l'Italia ha sempre avuto un ruolo assolutamente marginale dentro quell'alleanza atlantica lo sappiamo perché purtroppo i ruoli di protagonista ce le hanno ce le hanno altri ce le hanno gli Stati Uniti ce l'ha una Turchia che tutto è tranne che un paese di governato da filantropi ce l'hanno altri di sicuro non ce l'ha non ce l'ha l'Italia quel ruolo eppure l'Italia e io di questo io io rivendico questa è l'unica cosa che dico e che voglio davvero sottolineare rivendico il fatto che il mio partito sia l'unico che in Parlamento non ha mai accettato di inviare armi in in Ucraina non perché contro l'Ucraina ma perché siamo portati avanti da quell'articolo undici che non solo dice che l'Italia ripudia la guerra ma che dice che l'Italia ripudia la guerra ce l'ha esattamente davanti come strumento di offesa alla libertà di agli altri popoli e come mezzo di risoluzione del controverso internazionale e quindi no il ruolo dell'Italia non doveva essere quello di inviare armi all'Ucraina ma doveva essere quello di immediatamente far partire un percorso di diplomazia questo non è mai stato fatto io non ero d'accordo noi non eravamo d'accordo sull'invio di armi all'Ucraina si decide altrimenti benissimo oddio benissimo si fa una scelta che va contro un articolo della Costituzione e questo lo mettiamo da parte ma si decide di fare questo va bene ma parallelamente io pretendo che si inizi un percorso diplomatico invece no si è continuato a inviare armi senza mai renderci protagonisti quello che poteva essere una proposta di percorso diplomatico io vorrei ricordare però che non esiste un modo di che un modo di arrivare alla pace attraverso la guerra questo è un qualcosa di cui sono assolutamente d'accordo ma l'Italia adesso parlavo del Parlamento non è fatta solo del Parlamento non è fatta solo di quelle due Camere la Camera dei Deputati e il Senato è fatta di intorno agli 8.000 comuni e in questi 8.000 comuni ci sono cittadini cittadine ci sono associazioni che si muovono e che sono che sono uno dei motori forse il motore di questo di questo paese dell'Italia tra queste associazioni ci sono tutte quelle che partecipano al Presidio per la Pace Sestese prima sentivo sentivo dire dal consigliere Molteni prenderete strumentalizzerete la mia scelta no non strumentalizzeremo questa scelta anzi mi permetto di dire grazie di una scelta in dissonanza su un tema così importante però una cosa mi sento di dirla quando parla di associazioni che sono spinte da una da questo da quei personaggi politici beh io in questo caso almeno in questo caso mi sento di poter dire che no non esiste questa cosa almeno per quello che stiamo discutendo questa sera possiamo dire che non è andata così e che non c'è stato nessun tipo di strumentalizzazione in questo senso anche perché mi si confermi mi si corregga se sto sbagliando ma in sede di conferenza stampa in sede di conferenza stampa e di presentazione di questa mozione si è dichiarato che a fronte di un consigliere di minoranza perché quel giorno erano presenti solo consiglieri di minoranza quella conferenza stampa a fronte di consigliere di un consigliere di minoranza che si sarebbe posto come primo firmatario si sarebbe cercata l'interlocuzione anche con la maggioranza perché paritariamente non primo firmatario e secondo firmatario ma entrambi per quanto non sia non sia burocraticamente possibile ma mettendoli allo stesso livello per fare in modo che due consiglieri uno di minoranza e uno di opposizione firmassero questa questa mozione un sì maggioranza opposizione che lo perdono in modo che non fosse accusabile nessuno di strumentalizzazione che questa fosse un patrimonio non di una parte o dell'altra ma di tutto il consiglio comunale quindi no non c'è un un tentativo di 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 strumentalizzazione anzi c'è il tentativo di fare qualcosa tutti tutti e tutte insieme c'è stato questo tentativo ma mi pare di capire visto che vedo un solo primo firmatario non non sia stata non non si sia trovata questa questa risposta positiva e al fianco a queste associazioni ci sono però e lì quella è davvero la la più grande la più importante istituzione di queste istituzioni che sono i comuni ci sono i consigli comunali e io mi sento un po' svilito nella mia figura di consigliere comunale ma di ognuno di noi e di questo stesso consiglio comunale quando sento dire ma questi non sono temi che riguardano il consiglio comunale io vorrei ricordare che anni fa non mi ricordo che anno era ma la consigliatura eh duemila dodici duemiladiciassette in questo consiglio comunale uno dei primi in Italia prima firmataria la consigliera Gio Pietra che era esattamente di fronte a me dove oggi consiede la consigliera Soad Amdi abbiamo votato una mozione che chiedeva il registro delle coppie di fatto a Sesto San Giovanni lo abbiamo fatto noi come lo hanno fatto centinaia migliaia di comuni a quell'epoca e quelle mozioni inviate di volta in volta perché in quelle mozioni c'era scritto di inviare al Parlamento e ai ministri competenti questa mozione perché legiferino anche a livello nazionale quelle mozioni sono state di pressione al Parlamento che oggi che poi successivamente ha legiferato in questo senso e oggi abbiamo una legge sulle coppie di fatto grazie anche a questo consiglio comunale grazie anche a questo consiglio comunale e grazie soprattutto all'opera di quei consigli comunali che si sono mossi e che si sono spesi in questo senso per questo il fatto che questa mozione passi di qui è non solo normale è giusto è è quello che va fatto è far partire una richiesta una proposta dal basso perché arrivi nelle nelle più alte stanze nelle più alte camere di questa di di questo nostro paese voglio visto che in diversi hanno letto eh pezzi io ho una frase che mi ricordo che che adesso non so dove andare a cercare ma che vorrei ricordare che non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale ma so con quali armi si combatterà la quarta pietre e clave citazione di Einstein non certo non certo mia ecco io penso che in questo senso noi abbiamo il dovere di provare di provare a dare forza a questa eh a questa a questa mozione sarebbe stato io credo sarebbe stato bellissimo uscire questa sera con un voto unanime a questa mozione e e e spero ancora in un in un ripensamento nelle nelle vostre dichiarazioni nelle nelle dichiarazioni di voto di chi ha detto che si asserrà o che voterà contro e per ultima cosa per ultime cose mi chiedo che cosa sia che cosa sia la pace e la pace secondo me e vado davvero a concludere presidente la pace secondo me di sicuro è non è una cosa non è l'assenza di guerra non è l'assenza di guerra eh io lo so bene la città di Sesto lo sa bene perché abbiamo avuto per tanti anni adesso purtroppo da troppo tempo non 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 più eh rapporti con quelli che sono i campi profughi saraui eh di di quel popolo che dovrebbe vivere nel Sahara occidentale ma che vive nei campi profughi in Algeria in un in un contesto dove guerra agli occhi del mondo non c'è ma dove le persone continuano continuano continuamente a a morire purtroppo avendo avendo essendo presidente di un'associazione che si è occupato di che si occupa di disabilità nei campi profughi saraui posso dirvelo eh personalmente la la pace non è l'assenza di guerra la pace è la ricerca di dare voce a quelle che sono le richieste di questa mozione la ricerca di di un'unità almeno in questo senso perché se è vero come è vero che tante volte in questo comune in questo consiglio comunale i toni si accendono eccessivamente è vero anche che secondo me secondo noi su certi temi e l'emozione del del consigliere Cagliani nel presentare questa mozione penso l'abbia dichiarato più di qualunque altra parola potevamo e dovevamo essere tutti tutti insieme preferito a ve lascio velocissimo io non ho mai molte sì no chiedo scusa chiedo scusa no no va bene per me lo possiamo anche dire fuori ma siccome siete degli specialisti su queste cose e qui ritorno al discorso di prima mi sa che rivedo il voto è a favore consigliere Molteni ho fatto un errore io si termina la discussione poi le concedo il fatto personale l'errore è stato mio chiedo scusa altri interventi consigliere Cagliani prego sì io sentite io vi ringrazio vi ringrazio degli interventi perché la cosa probabilmente vi ha coinvolti ecco e questo e questo non è un successo personale mio è un successo dell'aula c'è stato un dibattito su un tema importante in cui sono intervenuti parecchi consiglieri dando il loro il loro pensiero e molti interventi ponevano delle domande non tanto e non solo a me che ho presentato la mozione ma ponevano delle domande un po' a tutti io personalmente non ho la risposta cioè sapessi sinceramente come raggiungere la pace non so io andrei all'ONU parlerei con altri personaggi andrei altru non ce l'ho la risposta però ho alcune certezze o alcune certezze che mi vengono dalla storia torno a ripetere io mi rifaccio spesso la storia allora chi predica la pace o chi comunque si batte per la pace viene spesso identificato come uno che vive sulle nuvole un utopista ma scendi a terra confrontati con i problemi reali vivi in un altro mondo tu ma guardate che io mi sto convincendo che non sono tanto io adesso parlo di me perché su questo tema mi sono speso parecchio anche in anni passati non sono io che sono utopista ma utopista è colui che crede ancora che il conflitto si possa risolvere con una guerra e che si possa ottenere la pace quando la guerra riuscirà a far tacere i contendenti guardate i libri di storia tutti abbiamo fatto un po' di storia a scuola no? noi a scuola venivamo interrogati tra un trattato e un inizio di una guerra un inizio di una guerra la fine di una guerra un trattato e la cosa durava un anno dieci anni cinque mesi sei mesi non durava moltissimo l'unico periodo lunghissimo di pace noi europei tra l'altro torno a ripetere è questo è il primo periodo che sono settanta e passa anni che qui non avviene la guerra in Europa ma perché ma perché ma voi pensate quante guerre avremmo potuto dichiarare alla Francia alla Germania con il contendere che avevamo sul fenomeno della migrazione piuttosto che sulle politiche economiche una volta si dichiarava guerra in questi settant'anni non c'è stata la guerra tra di noi ma perché perché abbiamo abolito i confini abbiamo abolito i dazi doganali abbiamo siamo stati bravi a costruire un Parlamento europeo un'Unione europea con tutti i difetti che ha l'Unione europea dove lì si dirimeva il contendere tra i vari stati si riportavano lì in quelle assemblee i conflitti che nascevano tra i vari stati e si è trovata una composizione adesso è sempre più difficile visto che abbiamo la guerra qui in Ucrino però l'utopista è colui che crede ancora che la guerra sia lo strumento per ottenere la pace ma è dai tempi di Romani che non è più vera che si vis pace in parabellum non è più vero perché purtroppo non avviene così ogni guerra lascia delle macerie lascia delle ceneri sotto le macerie che a lungo prima o poi riesplodono riesplodono e riparte il fuoco io ho maturato questa convinzione è un mio è un mio pensiero ma mi rifaccio anche un po' a quello che diceva Gino Strada Gino Strada guardate in una manifestazione in un'assemblea ha detto io non sono un pacifista io sono contro la guerra beh io quando l'ho sentito sono rimasto perplesso però tutto sommato penso non mi sono confrontato con lui perché mi capitava più spesso di confrontarmi con Teresa lui non c'era quasi mai non c'era neanche i tempi dell'asilo perché era già via allora ma io ho pensato che lui avesse detto questa cosa qui per uscire dall'equivoco cioè pacifista a volte è una figura ambigua perché ci sono diverse forme di pacifismo c'è chi vive veramente sulle nuvole e chi si misura col conflitto mettendo in campo degli strumenti che non siano violenti sono diverse e lui dice per uscire dall'equivoco guardate io non sono un pacifista io sono contro le guerre e lo diceva da un pulpito che gli poteva permettere di dire questo perché lui nelle guerre c'è stato era dentro fino al collo ecco io sono arrivato a questo punto io sono contro la guerra perché ritengo la guerra che non sia più uno strumento ma anche perché è successa una cosa nel 45 la bomba atomica è veramente un tornante alla quale siamo stati condotti dalla storia la bomba atomica ha detto chiaramente che non è più possibile riproporre la guerra per la soluzione dei conflitti è stata quella cosa lì è stata poi adesso ci siamo armati a dismisura sono non so quanti paesi India Pakistan ce l'hanno Israele ce l'hanno quasi tutti ormai la bomba atomica e quindi quando capita lo scontro poi la minacciano chi è che non so chi ha detto se hai un'arma in casa rischi non è che lo lo fai sempre ma rischi prima o poi di usarla gli americani sono il paese in cui si sparano più frequentemente di altri perché da loro il permesso permesso di armarsi esiste quindi niente torno a ripetere guardate che questa mozione è sul disarmo nucleare è stato detto perché è solo l'Ucraina e non altre cose anche Hitler vuole la pace sono state tante cose mi piacerebbe poi confrontarmi non in questa sede anche perché abbiamo fatto mezzanotte in quarto però però guardate che questa mozione qui abbiamo parlato di Ucraina perché questa è del giugno del giugno del 2023 del giugno 2023 è all'epoca quella su cui no ottobre l'abbiamo portata qui in consiglio però questa roba qui ha cominciato a girare giugno del 23 però era l'unico conflitto che c'era qui in Europa certo poi gli altri in Africa ci sono da anni sono molti più di 57 i conflitti nel mondo poi andatevele a vedere ce ne sono molti di più e mi si dice non è non è questa la sede appropriata per discutere di queste cose no no sono queste le sedi appropriate perché noi siamo un'assemblea cittadina politica e rappresentiamo dei cittadini guardate noi siamo più vicini al popolo di quanto non lo siano i governanti allora noi respiriamo la fatica la sofferenza di chi ci è a fianco tutti i giorni in città il governante è già è già un po' più distaccato è già un po' più noi non abbiamo guardie del corpo che ci proteggono se uno mi dice guarda qui che roba che schifo il sistema la semica consigliere comunale noi non ce l'abbiamo loro vivono in altro modo e guardate il sindaco Lapira a Firenze ha sempre detto che le politiche di pace partono dal basso perché sono i popoli che non vogliono assolutamente la guerra sono i civili che vengono massacrati ultimamente che non vogliono la guerra e noi dobbiamo rappresentare questa loro volontà per quello che questa mozione invitando il comune a farsi presente nei confronti di chi è a Roma di chi ha altre piazze da rappresentare di chi può andare all'ONU anche riportando la voce degli italiani dei rappresentanti del popolo italiano che dicono firmiamo un trattato in cui non ci si possa più armare e si possa disarmare tutte le potenze la potenza nucleare che abbiamo negli arsenali è questa la mozione ed è questa che chiedevo a voi un voto un parere eccetera e io di questo vi ringrazio attento interventi in aula prego signor Montrasio no però io scusa Caliani lo sai che mi rivolgo sempre a te col tu perché sei l'unico con cui io non essendo mai stato politico sono l'unico con cui un po' di confidenza diciamo così e io capisco siccome so che tu sei una bravissima persona spero che anche tu mi ripeti una brava persona e e ammiro la tua non so come dire la quasi la tua bontà e quasi ingegnuità in un certo senso non mi no no non me fraintendere ho passione ecco mi aiuti bravo parto dalla costituzione vi ricordate la mozione quella del fascismo comunismo mi sono sempre attaccato a questa costituzione già nominata da voi l'articolo 11 sono proprio alle mie spalle che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e via dicendo poi la costituzione ha anche altri articoli non perché io sia un guarda fondaio intendiamoci però la costituzione dice anche all'articolo 52 che la difesa della patria è il sacro dovere del cittadino il servizio militare va bene che più perché non c'è più la leva obbligatoria e via dicendo no e poi c'è che un altro articolo uno del 52 l'altro del 73 che le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari evidentemente i nostri padri costituenti che erano appena usciti da una tremenda guerra mondiale e si sono anche però premuniti a dire beh ma se qualcuno viene in casa mia e mi attacca devo anche difendermi penso che abbiano pensato questo non lo so e il problema è proprio questo il problema è che la pace siamo tutti d'accordo la pace la tua emozione è lunghissima io trovo difficile giusto parlarne però i nostri poteri diciamo di convincere un Putin sono in risori quasi devo dire non parliamo poi del conflitto che è scoppiato dopo questa è stata presentata come giustamente tu hai detto al 5 di ottobre due giorni dopo c'è stato il massacro perpetrato io non voglio dire dei palestinesi perché io non voglio credere che il popolo palestinese che è vittima di una situazione sia lui il protagonista di quei fatti successi al 7 di ottobre sinceramente guardando la televisione perché oltretutto adesso abbiamo un brutto strumento che è questo questo è come un'arma nucleare siete d'accordo su questo Caliani almeno tu rispondimi sei d'accordo no che questo è un'arma nucleare perché questi signori hanno oltretutto con un certo vanto hanno ripreso i massacri di bambini hanno tagliato le gambe alle donne qui ci sono delle donne in questo consiglio comunale qui che noi in occidente parliamo di donne e le hanno violentate con le gambe tagliate qual è la reazione di un popolo che ha le sue colpe sicuramente ma un popolo che ha conosciuto l'Olocasto ha avuto 6 milioni di morti un popolo che secondo me nessuno ha voluto c'è stato anche il cinema ci insegna qualcosa Schindler List quello che ha fatto che ha salvato milioni di ebrei no quando è arrivato nel campo di liberazione lei ha credo Auschwitz Auschwitz e l'ufficiale dell'armata rossa gli ha detto non venite a Est non vi vogliono andate da un'altra parte lo Stato di Israele è stato creato nel posto sbagliato non lo so perché Gesù Cristo era ebreo forse abitava lei credo anche lui ha fatto una sera crozza che l'ha proprio detto ma perché Dio non si è fermato a Evoli e è andato fino a Gerusalemme l'ho apprezzata quella riflessione perché in effetti era meglio che ci permassa a Evoli perché noi abbiamo le tre religioni e siamo parlo sempre della mia amica musulmana Molteni e mi dice e a sesto il primo nato è stato Ibrahim si chiama Ibrahim che sarebbe Abramo mi ha detto me l'ha tradotto lei no e siamo tutti figli di Abramo cacchio ma siamo proprio dei bei figli siamo più che altri penso figli di Caino perché noi siamo tutti figli di Caino perché l'abbè l'hanno ammazzato subito perché la nostra è scritto nella Bibbia tu che vai in chiesa lo sai no e non è facile allora se si alimenta l'odio e non è facile arrivare alla pace io ho il disarmo nucleare purtroppo vorrei che non ci fossero le armi nucleare ricordiamoci che i nostri 70 anni di pace qui faccio gli scongiuri i nostri perché io mi vantavo dicevo finalmente ho 70 anni di pace io ho sempre vissuto in pace io e te la guerra non l'abbiamo conosciuta però i nostri genitori ce l'hanno raccontata oggi i genitori insegnano forse poco i figli il sacrificio quello che è stato la guerra io credo questo e ce l'hanno raccontata sai io quando passavo lì a Rondò io studiavo ho fatto tre anni che ho studiato dei Salesiani sono uscito male ma pazienza quando passavo davanti alla lapide di Gilberto Levi lì a Rondò sai che ci siamo stiamo stati a portare la corona sai mia mamma mia mamma non era ebrea mi insegnava quasi a dire no quasi mi diceva di una preghiera per questo ragazzo perché era un ragazzo che è morto per liberare l'Italia molte volte adesso quando passo del Rondò e vedo Gilberto Levi dico chissà cosa penserebbe di questo Rondò oggi in linea generale lo so tu sei più molto più fiducioso di me sulla bontà delle persone oggi e è vero noi ci asteniamo ma io dico la verità sulle emozioni forse ne abbiamo già parlato io e te personalmente sulle emozioni qualche cittadino lo dico la verità che non sono in molti da ascoltarci qua in questo momento non mi stava ascoltando proprio nessuno a parte i presenti che ancora hanno resistito ci dicono mi dicono ma ma però voi dovreste parlare delle buche delle strade di quel è tutto sì è giusto siamo politici io mi sento poco politico non sono non ho mai fatto politica è giusto parlare anche di questo però non so fino a che punto riusciamo incidere io credo pochissimo ho paura che perché poi stasera è stato nominato il papa il suo rappresentante i risultati pratici quali sono io volevo fare una proposta indecente quasi non ci resta che pregare io sono dell'idea che in questo momento che io vedo difficilissimo perché trovo difficilissimo che un ebreo un palestinese oggi perché poi la reazione degli ebrei è stata pesante molto pesante è tuttora pesante capisco un popolo che viene chiuso in una striscia con tutte le problematiche di quella striscia però sarà difficilissimo sarà molto difficile e poi abbiamo a diciamo a destra molto a destra abbiamo là quel pazzo là in Corea che non sappiamo come cosa voglia fare esattamente poi abbiamo il problema dell'Iran vi ricordate quando parlavamo di fascismo e comunismo che parlavo delle democrazie occidentali sotto attacco allora noi tutti siamo critici sul nostro tipo di vita in modo di votare di esprimerci ma signori io non ho mai visto nessuno scappare in Corea del Nord o scappare come era prima in Unione Sovietica o scappare in Africa cercano di venire tutti qui perché tutto sommato con tutti i nostri brutti difetti che abbiamo a destra a sinistra al centro sotto di sopra signori qui abbiamo creato il sistema migliore con tutti i difetti io posso litigare con Cagliani Cagliani può litigare con me spero che quando esco di qua nessuno ci diano la tappata in testa tu sei molto fiducioso e un po' meno però abbiamo questa di questo dobbiamo tener conto va bene tutto però è molto difficile la vedo brutta io tu sei molto più fiducioso io un po' meno un po' meno perché dobbiamo imparare sia a parlare di pace di non nucleare no questo no quello dobbiamo cominciare a parlare bene di noi stessi da destra a sinistra cioè dire il nostro sistema è il migliore dobbiamo cercare di fare capire anche agli altri in Russia il signor Putin ha arrestato due poeti che parlavano di pace ti rendi conto e questa la realtà Putin era quello sempre del KGB me l'hanno confermato che era lui il capo del KGB e questa allora cominciamo a imparare a difendere la nostra democrazia a essere fieri di essere democratici e di essere italiani pure perché qualcuno ha pure vergogna di essere italiano no e di essere italiani e poi guarda la tua mozione intanto passerà perché se noi ci stegniamo credo così non so io non è ancora ben capito presidente passa la mozione se noi ci stegniamo intanto intanto il sindaco o lo mandiamo da lui ma ecco se vuoi far fuori il sindaco se vuoi far fuori il sindaco lo mandiamo là sul confine tra l'Ucraina e la Russia però insomma siccome io questo sindaco visto che sono nella sua lista ci tengo gli dico non andare resta sesto con noi ecco l'Italia e difendete la democrazia grazie grazie consigliere Montrasio altri interventi consigliere Bonato della parola scusate se resto seduto è sempre difficile fare un intervento dopo Montrasio ma vabbè comunque volevo solo fare un come dire un emendamento quello che è stato detto ai 70 anni di pace il 24 marzo 1999 sto leggendo un testo violando ogni legalità internazionale e ogni diritto umano i bombardieri della Nato iniziarono il loro raid contro quella che allora si chiamava Repubblica Federale Jugoslavia di Serbia e Montenegro il governo italiano guidato da D'Alema sostenuto da Costuta e Cossiga appoggiato in questo caso da Berlusconi con il consenso del Presidente della Repubblica Scafaro che diciamo c'erano tutti decise di partecipare alla guerra decise di partecipare alla guerra in realtà la decisione l'aveva già presa il governo Prodi che prima di cadere per eliminer meno del sostegno di fondazione comunista aveva deliberato l'act order con il quale si predisponevano le nostre forze armate alla guerra sotto comando Nato con i bombardieri italiani ebbero così i bombardieri italiani ebbero l'onore D'Alema ha sempre rivindicato l'impresa di partecipare alla prima guerra europea dal 1945 al primo bombardamento aereo di una capitale europea a Belgrado dalla sconfitta del fascismo quindi 70 anni di pace non ce li abbiamo avuti questo questo lo volevo ricordare volevo che fosse agli atti grazie grazie a lei non ci sono più altri interventi chiudo la discussione do la parola consigliere Molteni per fatto personale chiedo scusa prima sono io che ho deviato la procedura sono io che ho sbagliato perché non mi ero reso conto che c'erano ancora interventi per cui no no ma una cosa velocissima scusate una precisazione io non ho mai detto penso che si possa assentare a registrazioni che dietro le associazioni ci sono personaggi politici che strumentalizzano le associazioni ho detto che spesso queste associazioni ma anche questi associazioni questi gruppi di persone a volte a seconda di dove parlano assumono degli atteggiamenti diversi ma non ho mai detto che dietro ci sono personaggi politici che strumentalizzano questo per precisazione basta tutto qui grazie passiamo a dichiarazione di voto su questa mozione città in comune consiglia Pagani sì grazie presidente allora naturalmente il nostro voto è un voto favorevole lo ho espresso anche prima attraverso le motivazioni che ho portato a sostegno della lista civica di città in comune rispetto a questa mozione ehm volevo chiudere con una riflessione intanto ringraziare comunque tutti i consiglieri comunali che hanno partecipato al dibattito e sono convinta anch'io che in realtà dovremmo farlo molto più spesso perché poi alla fine questo è stato un dibattito interessante piuttosto che dribblare e come dire cercare di evitare le discussioni perché alla fine se ne esce arricchiti quando si discute non quando si evita di discutere mi ha colpito forse la frase che condivido di più fra tutte quelle che sono state dette è che la pace la vogliono i popoli e parte dai popoli e mentre ascoltavo in particolar modo qualcuno mi veniva in mente questo che si parlava anche di deportazione che uno degli atti più grandi di pace che ho mai considerato realizzato sono questi gemellaggi e patti di amicizia istituzionali tra le cittadine che hanno subito la deportazione e le città dove invece la deportazione è stata praticata proprio e la cosa che mi è venuta in mente pensando che i popoli vogliono la pace e visto che si è parlato anche di deportati e di deportazione è che i primi a volere questi patti di amicizia questi gemellaggi sono stati proprio i deportati e i primi sono nati negli anni 80 quando ancora i deportati mentre entravano nei campi di concentramento che visitavano soprattutto alcuni che si erano modificati nel tempo venivano aggrediti insultati dalle popolazioni locali che disputavano anche addosso e nonostante questo proprio per quello che avevano vissuto e perché umanamente e profondamente nella loro testa erano convinti che la guerra fosse una cosa sbagliata perché non si arriva alla soluzione sono stati visionari e hanno combattuto per avere nuovi legami istituzionali allora io questo dico bisogna essere visionari bisogna guardare più là di quello che c'è se no non si ottiene nulla grazie le ventiamo sesto consigliere voto favorevole alleanza verdi sinistra consigliere foggetta anche io sono rimasto particolarmente innamorato della frase detta dal consigliere Cagliani che diceva è giusto che queste cose passino da qui si discutano qui perché mentre in alto ma lo diceva anche il il consigliere Ghezzi persone molto più potenti di noi cercano altre strade i popoli vogliono la pace questo sono anche io ho trovato questa questo passaggio dell'ultimo intervento del consigliere Cagliani bellissimo sono contento almeno di questo che se le cose rimangono come ci siamo detti fino adesso comunque questa mozione passerà il nostro voto è favorevole Rega Salvini Premier consigliere Pini astensione grazie Forza Italia consigliere Cupido grazie Presidente come anticipato ci astegna Partito Democratico consigliere Maderloni grazie Presidente io credo che dopo questa discussione di questa sera l'azione che il presidio per la pace fa in città possa uscire rafforzata e avere una maggior spinta per poter affrontare anche tutti gli spunti che sono emersi dalle riflessioni dal confronto di questa sera noi essendo anche consigliere Cagliani primi firmatari ovviamente siamo a favore di questa di questa mozione e crediamo che il segnale che possa uscire in futuro anche per il altre iniziative che possono essere messe in piedi su questo tema così come anche su altri che possono riguardare la convivenza civile siano meritori di attenzione e di dibattito grazie gruppo misto consigliere vincelli grazie presidente ringrazio stasera il consigliere chiaramente Cagliani per la sua passione sulla sulla questione della pace è stato comunque un arricchimento ma proprio perché non mi piacciono chiaramente delle imposizioni e purtroppo chiaramente i punti sono alcuni punti dove chiaramente si impegni aggiunte sindaco sono in posizioni il mio voto è di astensione però ringrazio molto abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente come ho già dichiarato prima il nostro voto sarà favorevole proprio anche perché sono convinto questo parlo al singolare in questo momento sono solo io sono convinto della della bontà d'intento di quanto ho presentato poi sulle persone un po' meno fiducia ma questo purtroppo non posso non posso fare altro però in fede non posso non votare a favore grazie protege d'Italia al consigliere Turolla grazie presidente voto d'astenzione Stefano sindaco consigliere Pogliagli grazie presidente il nostro voto è di astenzione metto in votazione la mozione favorevoli astenuti con nove voti favorevoli e quindici astenuti la mozione viene approvata essendo passata le ore undici così come concordato in capigruppo l'ultima mozione non viene discussa pertanto saluto tutti ringrazio il pubblico le forze dell'ordine la polizia locale e tutti i dipendenti che hanno reso possibile questo consiglio grazie a tutti e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti garza